Scusate se vi metto fretta io, ma è una bruttissima giornata. Per chi si intende della questione abbiamo la giudicazione dei progetti CCM, quindi pensate che c'è molta aspettativa anche su questo, quindi purtroppo non è che possa trattenermi quanto vorrei. Comunque questa è un'attività di estrema importanza per tutti noi. Lo è adesso ma lo sarà molto di più nel prossimo immediato futuro perché stiamo cercando, come avete visto dall'insieme dell'attività di governo, di proporre in sede comunitaria uno scaling up di tutto quello che è l'attività di interesse per l'appunto comunitario. Per quanto riguarda il regolamento RIC ce l'abbiamo. Abbiamo una serie di comitati, abbiamo la possibilità di lavorare insieme, però il livello politico molto spesso resiste e non reagisce come dovrebbe sulla base dell'evidenza fattuale che le varie commissioni, i vari punti di contatto nazionali esprimono. Mi riferisco in particolare alle procedure di importazione di materiali a rischio che riguardano soprattutto l'attività congiunta tra i nostri uffici di sanità periferici. Come sapete abbiamo un regolamento piuttosto robusto in Italia dove entra molto poco che non sia supervisionato, verificato e validato. Analoga situazione non accade in altri Stati membri, con la conseguenza che il nostro monitoraggio di dove la merce viene poi scaricata ci dice con estrema chiarezza che nel momento in cui viene respinta dagli uffici di sanità italiani ricompare in altri porti e in altre stazioni doganali di altri Stati membri che hanno o regolamenti più laschi oppure fingono di non vedere quello che già l'autorità italiana ha respinto. Questo è un elemento di grossa crisi e che in qualche modo deve essere superato in ambito comunitario con ispezioni ben più rigide di quante non siano, con la possibilità di rendicontare da parte delle singole autorità nazionali quanto effettivamente accade e non quanto vorremmo o si vorrebbe che accadesse in un mondo ideale. Ideale non è infatti. Comunque sia, è ovvio che il primo obiettivo fondamentale per quanto ci riguarda è la protezione della salute. Abbiamo una componentistica che riguarda l'ambiente su cui uno dei nostri uffici di questa stessa direzione generale si sta attivando in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente per arrivare a risanare quella che è stata, come si può dire, la devastazione sistematica di certi ambienti dove il riversamento del posto industriale ci mette in una condizione estremamente critica. Sapete bene che ci sono siti di interesse nazionale ma anche siti riclassificati di interesse regionale dove l'accumulo di scorie, l'accumulo di sostanze mette a rischio non soltanto la salute nostra, attuale, degli adulti ma soprattutto interferisce in maniera chiarissima ormai con l'evidenza scientifica che ci viene fornita anche da altre strutture internazionali, interferisce con il prodotto fetale, quindi va chiaramente a danneggiare il destino dell'intero Paese, quindi le generazioni future dove interferente endocrino di natura chimica è un elemento di grandissima considerazione, di grandissima priorità per quanto ci riguarda. Si parla, avrete visto sicuramente l'anno scorso, si parla ormai di salute planetaria, quindi di meccanismi di equilibrio che abbiamo predicato per anni ma che adesso anche una commissione Lancet che è stata costituita appositamente ha in qualche modo formalizzato. Dove siamo con il regolamento Ricci? Siamo a questo punto con un insieme intersettoriale, multisettoriale di competenze che si intrecciano e che alla fine ovviamente devono sforciare non soltanto nell'aggiornamento sistematico dei regolamenti ma anche e soprattutto come dicevo nell'ispezione altrettanto sistematica e altrettanto rilevante che questi regolamenti vengono effettivamente applicati. Perché ripeto l'evidenza che abbiamo da altri settori di governo, o da altri settori di polizia ispettiva che collaborano sistematicamente con noi, l'evidenza che abbiamo dicevo è che molto spesso questi regolamenti vengono disattesi e vengono disattesi con degli ambiti preferenziali di importazione. Noi siamo, diciamo che il Ministro, questo Ministro ha rinvigorito non poco la nostra partecipazione, la nostra presenza sui vari tavoli. Il Ministro della Salute era arretrato rispetto ad una serie di tavoli di discussioni, di concertazione, commissioni, commissioni varie e soprattutto tutto ciò che riguarda ambiente salute, che riguarda la componentistica, come dicevo, chimica, la sorveglianza attiva di quanto accade. Questo non è più, vi sarete accorti che nell'ultimo biennio c'è stato un rifresco notevole della nostra presenza sui vari tavoli, c'è stato un rilancio di piani nazionali, di regolamenti, di linee guida, per cui in questo momento, grazie ad un'azione di governo che, ripeto, è assai coerente dal nostro punto di vista, stiamo cercando di arrivare a dei risultati che emanano dalle buone prassi che i regolamenti RIC ci hanno insegnato. Abbiamo generato una procedura di valutazione di impatto sanitario, come probabilmente sapete, che in questo momento è in discussione, insieme all'amministratore dell'ambiente, per arrivare ad una distinzione tra tutto ciò che è impiantistica e sorveglianza sull'impiantistica verso tutto ciò che è impatto sulla salute e saturazione ambientale dei vari prodotti di emissione industriale e quindi di impatto sulle comunità e sugli individui, su cui la nostra visura è leggermente divergente e in qualche modo andrà omogeneizzata a valle. Attivo la vostra attenzione sull'ultimo punto che riguarda i tatuaggi. Poca cosa, poca cosa apparentemente è abbastanza banale. Fa parte del ludico in qualche misura, viene regolamentata e regolata assai poco, ma abbiamo anche qui un'evidenza da parte dei nostri collaboratori, dei nostri laboratori dell'Istituto Superiore di Sanità, che esiste una forte, notevole e inaspettata contaminazione a livello fungino, per esempio, di tutti o praticamente tutti i coloranti che vengono importati da paesi insospettabili, Stati Uniti, Germania, Inghilterra. Anche qui, ripeto, la sorveglianza è necessaria e indispensabile, soprattutto in aree dove poca regolazione esiste, dove viceversa l'attenzione dei nostri corpi ispettivi è estremamente alta, perché la pratica è diventata talmente comune, talmente generale ed è talmente poco gestita per quanto riguarda le autorizzazioni del commercio che ovviamente la tutela della salute in questo caso diventa fondamentale per l'Italia, soprattutto nei confronti dei ragazzi, che sapete benissimo, si ricoprono di tatuaggi. Questo è il quadro normativo all'interno del quale ci muoviamo. In tutto questo quadro, ripeto, in questo momento la discussione aperta sul tavolo interistituzionale come Ministero dell'Ambiente riguarda l'inserimento anche di una componentistica VIS per quanto riguarda tutto quello che è l'emissione di nuovi impianti e la riautorizzazione dei vecchi. Si inserisce in un ambito di priorità che abbiamo fortemente voluto inquadrare nel piano nazionale di prevenzione, incoraggiando fortemente le amministrazioni regionali a inserire nei propri piani regionali una componente specifica che riguarda soprattutto le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute. Questo è un elemento di novità rispetto al passato perché si inquadra in maniera formale e viene verificato attraverso una serie di azioni centrali ed un tavolo di concertazione e monitoraggio che si basa sulla verifica e sulla supervisione del raggiungimento di obiettivi specifici e quantitativi che con le amministrazioni regionali abbiamo definito lo scorso anno. Ciascuna regione ha presentato un proprio piano regionale, il tavolo di concertazione nazionale li ha verificati, li ha validati e li ha validati in maniera formale. Quindi sono, come si dice, binding. Devono essere eseguiti e devono essere eseguiti sulla base di procedure, sulla base di indicatori che, ripeto, sono stati chiaramente definiti e per una volta anche quantificati. Quindi siamo in grado di monitorare quanto accade anche su questa macroarea. Il macro obiettivo 8 è questo qua. Lo vedete, ci sono degli elementi di collateralità che riguardano ad esempio la funzione ispettiva. La funzione ispettiva è stata sistematicamente perduta nel passato dall'amministrazione centrale a favore dell'affidamento a terze parti. Questo non è più perché da quest'anno abbiamo riformulato un piano di formazione interna e di abilitazione interna per la costituzione di un corpo ispettivo centralizzato da parte del Ministero e da parte dell'Istituto Superiore tale per cui si potrà procedere con ispezioni di Stato assolutamente certe e assolutamente terze rispetto alle parti in causa. Questi sono gli elementi che impattano nella questione RICS. Vedete che i piani di controllo regionali soprattutto e la formazione degli ispettori hanno chiaramente una loro trasposizione nella definizione dei piani integrati che erano previsti dal decreto legislativo 81 naturalmente. C'è una presenza che stiamo cercando anche di recuperare all'interno delle scuole dove esiste, esisteva nel passato una collaborazione informale legata molto alla capacità di interazione individuale, personale. In questo momento la questione è stata riportata a livello istituzionale. c'è un protocollo che è stato redatto tra scuole e salute all'interno del quale stiamo cercando di ridefinire l'impianto curriculare scolastico ad ogni livello in modo tale da produrre un miglioramento se volete della cultura scientifica generale dei nostri ragazzi a partire dagli elementari ma anche un acculturamento a riguardo di certi elementi che riguardano anche ovviamente l'ambito RICC. Nell'agenda, negli obiettivi 2020 e nell'agenda 2030 siamo presenti, siamo presenti in maniera rilevante anche qui vi rendo conto di dove siamo, siamo nello standing committee dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'Ufficio Europeo dove abbiamo prodotto direi notevoli risultati nel corso dell'ultimo anno con l'adozione di pratiche, di linee guida e di strategie di livello, ripeto, macroeuropeo quindi della regione europea dell'OMS ma dall'anno prossimo saremo anche nel executive board dell'OMS centrale quindi questo ci permetterà di dare maggiore visibilità alle priorità di governo e alle priorità che emergeranno dalla discussione che avremo oggi quindi credo che sia un buon momento da questo punto di vista un momento in cui la produzione tecnica, la produzione scientifica possono avere anche una rilevanza, una visibilità politica, strategica e generale che precedentemente non avevano. Con questo ho concluso, scusatemi la grande fretta ma purtroppo è una giornata così. Grazie molte e spero veramente che ci diate una serie di indicazioni su cui siate certi l'attività regolatoria si baserà e non trascurirà di certo l'elemento tecnico e l'elemento scientifico di discussione che potrà essere generato. Grazie ancora. Grazie direttore del suo intervento, l'abbiamo particolarmente gradito ed è motivo di spunti per varie discussioni che si svilupperanno in questa giornata dedicata al regolamento RIC e certo non escludendo il CLP che parte integrante del regolamento RIC. Io darei adesso la parola al direttore generale dello sviluppo economico, il dottor Stefano Firpo, che anche lui ci ha raggiunti oggi con un grande piacere anche per la sua presenza perché lo sviluppo economico insieme all'ambiente ha un ruolo determinante, determinante per l'implementazione di questa materia. Prima di iniziare le varie sessioni darei a lui la parola per darci qualche parola di sostegno e conforto. Grazie. Sì, grazie, grazie molte. Sono molto contento di venire qui. È stato un po' faticoso venire qua, ho rischiato la vita su Viale Colombo almeno cinque volte, ma sono arrivato sano e salvo qui. A me fa piacere essere qua perché la collaborazione appunto tra il Ministro del Sviluppo Economico, il Ministro dell'Ambiente e il Ministro della Salute è particolarmente fruttuosa e anche ben coordinata e solida e ormai consolidata. Ormai è diverso tempo che lavoriamo su questo tema. Ovviamente il mio è un contributo qui in primis di saluto perché volevo portare comunque i saluti del Ministro Calenda che non ha potuto essere qui presente questa mattina. Certamente il mio contributo è di grande attenzione su questo tema. La mia direzione in particolare ha la responsabilità della desk sul RIC e quindi fornisce già da diversi anni assistenza alle imprese per tutto quanto riguarda le procedure di registrazione, di autorizzazione, di restrizione e su questo stiamo facendo un lavoro che si sta ovviamente molto intensificando nel tempo. Ormai abbiamo gestito nel tempo oltre 3.000 istanze sulle desk e quest'anno ne abbiamo già gestite più di 400 e questo lavoro si sta molto intensificando. Fatemi fare solo qualche breve considerazione su questo tema sia guardando all'esperienza passata sia guardando un po' anche al futuro. Ho visto che questo convegno è molto articolato e devo dire anche molto ben strutturato a quest'impostazione. Guardare un po' al passato, raccogliere le esperienze che sono state fatte in questi anni di collaudo su RIC, prepararsi per una nuova fase applicativa che dal giugno del 2018 vedrà un'estensione al campo di applicazione molto importante di questo regolamento che andrà a interessare paradossalmente sempre meno il settore chimico e sempre di più settori più ampi, più trasversali e quindi comporta tutta una serie di attività, tutta una serie di attività da parte dei ministeri, di attività da parte delle imprese che saranno sempre più pesanti, sempre più complicati, sempre più complessi da gestire. Dall'altro il futuro. Ho visto che nell'ultima sessione parlate di economia circolare e certamente questo è un tema molto interessante perché se da una parte questo sarà certamente uno dei modelli di sviluppo del futuro per ridurre le emissioni, per gestire in maniera più accorta e intelligente degli sprechi, per creare dei veri e propri mercati, dei rifiuti, dei sottoprodotti, attraverso anche regolamentazioni che consentano questo, questa nuova dimensione di sviluppo, di innovazione certamente si incrocia con le tematiche del regolamento RIC in nuove forme, in forme ancora più complicate e articolate. E su questo, diciamo, se da una parte, ad esempio, la Commissione europea sta molto puntando su questo pacchetto, ricordo che su questo pacchetto la Commissione europea sta mettendo nel futuro, metterà 6 miliardi di euro di risorse, bisognerà certamente trovare all'interno di questo pacchetto e nelle sue interazioni con il regolamento RIC delle forme di interazioni intelligenti, che siano forme abilitanti di questo modello di integrazione. E quindi mi fa molto piacere che nella vostra sessione finale parliate di queste nuove prospettive. Io qua, oltre al mio saluto, faccio proprio due considerazioni velocissime, portando ovviamente l'istanza del Ministro dell'Industria in questa tavola, e anche sull'esperienza che abbiamo avuto proprio tramite l'Hildesk di gestione di tutta la complessa approccio che le imprese hanno di fronte a una normativa che se da un lato ha il pregio di muoversi verso, diciamo, una filosofia che contempera la responsabilità autonoma dell'impresa nella gestione del rischio legato, e non alla prevenzione del danno, questo mi fa sempre piacere ricordarlo, nella gestione del rischio per quanto riguarda le sostanze chimiche importate, fabbricate, utilizzate nei processi polluttivi, e ormai appunto ci muoviamo in un'ottica in cui questo toccherà non solo il settore chimico, ma veramente sarà mai un regolamento mai trasversale sui diversi settori industriali e non industriali del nostro Paese. Quindi se da una parte ha questo pregio di muoversi verso tutela dell'ambiente, tutela della salute, in un'ottica appunto di responsabilità e azione proattiva delle aziende, dall'altro dovrebbe anche invogliare, questo era una delle principali spinte del RIC, invogliare l'innovazione del prodotto, le sostituzioni, quindi invogliare processi produttivi maggiormente sostenibili, maggiormente, diciamo, che utilizzano non solo le regolamentazioni, ma utilizzano anche l'innovazione per rispondere a queste regolamentazioni. Su questo fronte, per quanto abbiamo degli esempi positivi, ancora, ecco, il regolamento deve dare i suoi frutti, ancora siamo in ritardo e quindi finora, come dire, questo regolamento si è trasformato in un aggravio molto significativo di costi, di adempimenti molto pesanti per le aziende e ancora poco si è trasformato in una spinta, in uno sprono verso l'innovazione. Su questi due fronti, quindi, dobbiamo agire. Il Ministero del Sviluppo Economico è molto impegnato, da una parte, in un'attività di forte assistenza alle imprese, di vero e proprio aiuto alle imprese e su questo, anche nella prospettiva del 2018, noi siamo pronti a intensificare la nostra attività, in coordinamento, ovviamente, con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Ambiente, di assistenza alle aziende, in particolare sulle autorizzazioni e sulle restrizioni, che diventeranno un tema centrale. Dall'altra, vogliamo anche essere proattivi sul fronte dell'innovazione. Abbiamo in Italia un settore, ad esempio, della chimica verde, che è in grande spolvero, che potrebbe, già in alcuni casi, è in grado di aiutare le imprese a ragionare in termini di sostituzione di prodotti chimici, su questo, secondo me, bisogna ulteriormente lavorare, perché, se no, rischiamo che questo regolamento costituisca un pesantissimo aggravio di costi, di adempimenti, di complessità, di tempo per le imprese e non si traduca in quella spinta all'innovazione da cui sostanzialmente è nato. Io vi ringrazio molto e buon lavoro a tutti. Grazie, direttore. Il suo intervento ha toccato aspetti che per noi sono di primaria importanza, come l'economia circolare e il riciclo delle materie prime, secondarie, provenienti dagli end-web, dai rifiuti, di cui si parlerà in questa conferenza in più momenti. Pertanto la ringrazio di essere entrato in merito a questa tematica e poi anche della chimica verde, ha un impatto notevole per portare avanti una politica anche di risparmio, in certi casi, oltre di evitare che sostanze altamente tossiche vengono a trovarsi nei prodotti che normalmente impieghiamo e consumiamo. Quindi la ringrazio tanto. So che lei deve allontanarsi, come anche il nostro direttore generale, perché ha impegni. Torno a rischiare la vita su Gale Colombo. Grazie. Grazie. Dunque, questa sessione la doveva dirigere il mio superiore, dottor Mariano Giancarlo, che è qui presente nella prima fila. Anche lui, come i nostri direttori generali, non è libero da impegni. Pertanto mi ha affidato il piacere e l'onore di presiedere questa sessione. Comunque, se il dottor Mariano vuole intervenire, anche lui no, non ritiene sia caso. Noi possiamo anche iniziare la prima sessione, che aprirà con una amica e collega che incontro regolarmente a Bruxelles da tanti anni. E la dottoressa Cristina de Avila, che è dal cognome che capite le sue origini, sono origini spagnole, è una persona estraordinariamente preparata e lavora presso la DG Ambiente. ha il capo, anche lui, Bjorn, è un grande amico di tutti noi, perché assieme a Klaus Berent della DG Grow, sono i due che praticamente hanno dall'inizio ad oggi sviluppato il regolamento RIC e lo continuano a fare, implementando presso il Caracal. Voi sapete il meeting che riunisce tutte le autorità competenti per RIC e CLP d'Europa. In quella sede si prendono decisioni che poi vengono sviluppate nei vari altri comitati dell'ECA, ma anche della Commissione. Allora, la dottoressa Davina parlerà in inglese, Davila parlerà in inglese, un inglese molto vicino al nostro inglese, non è dei più perfetti, diciamo così, ma è molto comprensibile, per cui non ci saranno problemi anche perché le slide vi aiuteranno in questo momento di intervenire è l'unico intervento in inglese che avremo in tutta la conferenza, però ritengo che sia importante ascoltarlo. È importante ascoltarlo proprio perché fa un quadro in previsione del 2018 e poi oltre. Grazie, prego. Grazie. Grazie, e grazie. I voglio ringraziare i organizzatori per invitare me a venire qui oggi per parlare con voi sui dei risultati di RIC. È un piacere di essere qui e di a tutti i nostri colleghi italiani, in un ambiente di normalizzazione di Brasile, che è un po' più grello che qui in Roma. So, come ho detto, oggi vi parlerò di risultati di RIC. So far, come Pietro ha detto, ho fatto in inglese e in spagnolo, quindi tendo a parlare molto veloce. Se è troppo veloce, potete sapere, potete sapere. So, first and foremost, let's remind what were the RIC objectives at the time it was adopted. It was to ensure a high level of protection of human health and environment, while reducing also the animal testing necessary to obtain information on substance. But it's a free movement regulation. It's a piece of legislation that wants to enhance the circulation of substances in internal market, while at the same time enhancing competitiveness and innovation. So, those were the four main objectives of RIC. RIC was the result of a long process that started almost two decades ago, when the Commission committed to assess the, at the time, existing legislation on chemicals. The outcome of that assessment was that the pre-REACH regulatory framework was inefficient. It had not produced sufficient information on the effects of substances on human health and on the environment. When the risks were identified, the assessment process was slow and cumbersome, very resource intensive. The same applied to the adoption of risk management measures. The pre-REACH system was also found to have hindered innovation, research and innovation, because it differentiated between new and existing substances. New substances had to be tested and assessed for possible risks before they were placed on the market already at 10 kilograms. This was not the case for existing substances, which constituted at the time 99% of the chemicals market, and they were not subject to the same obligations, but understood to be safe unless it was proven normally by authorities, the contrary. So this discrimination between new and existing substances was identified as a source of hindrance to innovation, because it promoted the use of all substances versus the innovation on new and safer substances. So with that in mind, we decided to change the chemicals framework. We adopted REACH. And the general elements that we can find as achievements of REACH, first of all, that is a regulation. It seems quite basic, but regulations are the real creators of internal market, because the same rules apply to all. We don't set objectives as in a directive that are there to be met by member states through the means they find appropriate. Here, we are all subject to the same legal text. We are all subject to the same rules. So it is understood now from the Commission, we have a tendency now to favor regulations when we are talking about internal market. We also set a European chemicals agency. This is a centralized knowledge and expertise on chemicals under a single framework, which is positive because we can also use that expertise in other areas. And that's something that we see that is a trend now with the European chemicals agency, that it was established under REACH. It was given later on, two years later, responsibilities under the classifications, labeling and packaging regulation. It has now also responsibilities under the biocides regulation. So it's a trend to centralize that kind of knowledge and expertise in a single body. So we can better use that knowledge in synergies with different pieces of legislation. REACH has also built a strong and a structured cooperation between the authorities, not only through the Committee of the Authorities meeting and through the committees that bring us together to adopt measures, to adopt restrictions, to grant authorizations, or to amend the regulations, but also through the different processes in ECA. And this is important, not only in terms of the Committee and the way that the national expertise work through the committees in ECA, but also in terms of the cooperation with the stakeholders. ECA has been praised as one of the agencies that has a more structure and transparency stakeholder cooperation. And other agencies are now looking at ECA and seeing how they can improve their own cooperation strategy with the stakeholders and learn from the lessons in ECA. It has also brought industry compliance and industry into the system by giving them responsibilities and by having them getting engaged in chemicals management from a regulatory point of view. If we look into some of the concrete achievements, because these are generic achievements of REACH, but looking into more concrete achievements of REACH. When we look at obtaining more and better information, which was one of the main objectives of REACH, to generate that or to gather that information maybe already existing on the properties of substances, we see that around 10,000 companies have registered substances. We have so far around 54,000 registrations on 14,000 substances. This is all thanks to industry's efforts, because REACH marked the shift of responsibility in the gathering of information on substances to industry, from authorities to industry. We have so far around 54,000 registrations. Registration is followed by the assessment of compliance of these dossiers and by further evaluation of substances that are – its ultimate aim is to increase the level of scientific knowledge and understanding on the hazards of the substances, so you can then take the appropriate risk management measures. The ultimate aim of having all this information is to have a better communication, better safe and safer management of substances. We have to do now an impressive amount of information that is also available on ECA's website to all of us to consult, not only to companies but also to authorities and to the general public. We see that ECA has done an impressive work in trying to make all this information understandable, not only available but also understandable and usable for all those that may want to use it. Their dissemination website has several levels of – I don't know if you're acquainted with it, I hope so – They have several layers of information. So it goes from the very generic to maybe the consumer or the citizen that might be interested in finding very basic information, a substance, to very in-depth information on the registration dossiers, on chemical safety report, et cetera, that is more interesting maybe for companies or for authorities. They also have developed a system of infocards that has made also possible to have easy and comprehensive consultation for everyone. But what are still the challenges ahead of us in terms of obtaining more and better information on substances? First of all, we have found that there is a great amount of registrations that are not compliant. They don't fulfill the obligations and the reach. When authorities have engaged with companies and have requested the necessary information, companies have generally worked towards compliance and the situation has been solved. But this is a suboptimal way of working on industry's responsibility. It's a bit going back to the old system from an authority's point of view. So we believe industry needs to invest in proper registration dossiers and improve the information. Amongst others and especially on exposure scenarios, on uses and exposure scenarios. This is key information for those that are using the substances and it's paramount to achieve the safe use of chemicals. Industry also needs to take more seriously the obligation to update registration dossiers. This obligation is not time limited in reach. It's only meant to be done without undue delay. And there is a margin there of interpretation. But it's important that this undue delay is really undue. So it's not two years' time. So they need to put more efforts in updating this information. Not only when these updates come from another process like substance evaluation that triggers this type of update or through authorizations that also trigger this type of update. But on their own account when they come across new information or important information that needs to be updated in the registration dossiers. Authorities, on the other hand, need to focus evaluation activities on substances that are of the highest concern. So we can try to link the improved knowledge on substances with better risk management. So focus on CMRs, PBTs or endocrine disruptors. Secondly, data sharing has to also improve. In particular, as it refers to SMEs. We've had, through the two previous registration deadlines, a lot of companies coming to us, to the Commission, and complaining about the way the substance information exchange forums, the CIVs, were handled, normally by big companies, and how SMEs felt that they've been bulldozed into buying data packages that they didn't need, that was not necessary for the registration dossiers because they were registered at lower tonnages, et cetera. So that pushed us to adopt a new implementing regulation on data sharing and joint submission. We are hoping that this new regulation will improve the working methods in CIVs. They will become internally more transparent in terms of the information that is needed and that is available, but also on the costs of this information and also the functioning of the data sharing access, including the dispute settlement. We've seen that there are very few disputes on data sharing when REIT has already established a system for this dispute settlement. So we were a bit puzzled when we were looking into this regulation, why so few companies felt the need to resort to this mechanism. And we think it's important that there is a mechanism there and it's fully used. We also hope that this regulation will assist in joint submission and in making one of the big registration mottos of REIT, one substance, one registration, a reality. Because as we've seen with the figures before, it is not a reality today. Thirdly, we feel that industry need to provide more information on nanoforms. So far we have only 18 dossiers with information on nanoforms and this figure definitely does not represent reality. Although we are in the European Commission working towards amending the rich information annexes to clarify what are the obligations of registrants in terms of registration of nanoforms. The obligation already exists there and we've been very clear about it, both in the Commission and INECA. So industry already now needs to include in the registration dossiers the information on the nanoforms, the manufacture and the import. And fourth and also very, very important because it's, as we saw before, a key objective of REIT, the issue of animal testing. REIT places responsibilities both on industry and on authorities in terms of reducing the use of animals, of vertebrate animals, when doing tests to obtain information on substances. Companies that use these alternatives in order to comply with the registration obligations, so instead of sending the result of a test, they send an adaptation, a read-across or any other type of adaptation, they need to better justify this choice. A harmonized way of doing these justifications and a more thorough justification is necessary. Because otherwise, when this is assessed, these testing proposals are assessed by ECA, it might turn out that finally the test is required. And it's just a matter of properly explaining why this adaptation was put forward. Equally, companies that are proposing to do a test need to justify the efforts they have done to consider alternatives. And to use and to fulfill with the last resort principle. So what alternatives they have gone through and how they have concluded, this was not the optimal way to go forward. And they still need to do the test. In terms of safer chemicals on the market, we can see the results from the two main instruments that REIT has, which are authorizations and restrictions. Today, the candidate list contains 168 substances of very high concern. 31 substances are in Annex 14, so they require authorization for continued use. And we've seen that there are relatively very few applications for authorization. In terms of restrictions, we have 20 new restrictions on the use of hazardous substances, whose ultimate aim is to reduce the risk. So what are our challenges ahead for having safer chemicals? We see from an authorities and a decision maker's point of view that there remains challenges ahead of us in terms of the proper management of chemicals of the highest concern. On authorizations, we face sometimes poor applications for authorization, which derive in poor opinions from the scientific committees of OPECA, which make in turn very difficult for the regulators, which is the commission and also the national authorities helping us and advising us in the committee to grant the authorization. So we feel that we all need to step up our game and start delivering to the REIT requirements. We have also seen difficulties between the interface of REIT, in particular REIT authorizations, and other pieces of legislation. For a long time, we talked about the waste legislation. I think in that sense we are, with experience, we are feeling more comfortable on the data phases. One area that it seems to be more problematic and we are facing challenges from already some years is the relationship between REIT and occupation and health and safety legislation. In particular, authorization, which is very focused on the use of chemicals and not so much at the industry level and not so much on the consumer use of or consumer safety. Normally, in terms of this relationship, REIT acts when occupational health and safety legislation has not acted and that's not always very welcome. We also see that the restrictions, okay, there are 20, but that's few. If we make an average, it's two restrictions per year since REIT's entry into force and that we believe is a very low figure. So we need to get more focused and use more concern-driven evaluation and assessment of substances to identify and adopt more restrictions. There also exists a significant concern on the safe use of chemicals by consumers and exposure of consumers to substances of very high concern. We have very few notifications as required by REIT, and this very low number is worrying. We note in the Commission that the biggest source of concern for unsafe products through the REPEX, the alert system that we have, it's chemicals, it's dangerous chemicals. So it's a bit of a schizophrenic situation that we have REPEX telling us this is the source of the biggest concern and we have so very few notifications on substance of very high concern in articles. So we need to further explore how these provisions are working in REIT and engage further with industry and with authorities to make them work or see what needs to be changed if something needs to be changed. So in terms of innovation, which is also an objective of REIT, we believe that innovation is definitely taking place. In the 2012 REIT review, we found that the information and the communication of information mechanisms in REIT have acted as a stimuli to product conception or to innovation in a varying degrees. We know from a study that was commissioned by us, by DigiGrow, on the impacts of REIT on innovation, competitiveness and SMEs, that 26% of companies had indicated an increase of research and development activity. So in 2016, companies also informed that they had revised the product portfolios and streamlined them, withdrawing substances of low volume and low value for them. The registration data confirms this. We have registration of 1,500, almost 1,500 new substances. And this is part of an increase in annual trend. So we see that new substances are coming in the market and have been developed now. It has been found that candidate listing, so identifying substances of very high concern, is the driver, the main driver in REIT for innovative activity. And this is confirmed by the low number of applications for authorization. It is clear with this low number that substances of very high concern have been substituted, phased out and replaced by several alternatives. And we have also increased, we have also seen a gradual increase, a systematic increase of the use of the product and process-oriented research and development, and the P-point exception that REIT contains and that allows companies to benefit from reduced registration requirements to boost innovation. But it's not possible to talk about the achievements or the results of REIT without looking into how we are assessing those now. As you know, that every five years the Commission has to present a report. Every five years the member states present a report. Every five years the European Chemicals Agency presents a report. And then the Commission comes to present a report on the operation of REIT. We are doing this now in 2017, in difference with 2012, through what we call a refit evaluation. The exercise is fundamentally the same as before. It's just the structure and the framework that has changed. It is part of a bigger framework in the Commission that we call better regulation. But in a sense is the work that we're doing is very essentially the same work that we're doing before for ex post evaluations. And that is the reason why we have systematically in piece of legislation the calls for review every three, every five years. The objective of the evaluation will be, as it was before, to assess the overall effectiveness, efficiency, relevance, coherence, and EU added value of the legal framework. And to identify possible excessive regulatory burdens, overlaps, inconsistencies, gaps, and obsolete measures. As I said, what better regulation and the refit program brings is a more structured way of going about this type of exposed evaluation. So in the case of evaluations, we are required of fitness check. Fitness check is when you have several pieces of legislation. Evaluations is when you just have one, which is the case of REIT. We need a roadmap. And this roadmap is publicly available. It was published in the case of REIT in May 2016. And we need a stakeholder consultation, which we had before, but now in a structured manner through questionnaires. And those will be soon available. And at the end of the process, we need to get the green light of a regulatory scrutiny board. The work that we are doing, as we did in the past, is evidence-based. So it's based on the reports of ECA and of the member states, the five-year reports that they have to produce. And it's based on thematic studies that we've launched on cost and benefits and a series of studies on polymers. And we have a long list of studies. All that is clearly mapped in the roadmap. And the stakeholder consultation. And we will also include there the assessment of the results of the outcome of the 2012 review. So the previous REIT review. We expect to have the results available by June 2017. And finally, we're never liking the Commission to just stop with the results of pieces of legislation, but see what is ahead of us. What are the challenges that we have beyond REIT? And what is the strategic context beyond REIT? And this is an issue that you will discuss in a session this afternoon. But I will try to give a very, very quick background on how we see in the Commission, how the work on chemicals looks into the future in two main actions, two main lines of activity, which are circular economy and the non-toxic environment strategy that is enshrined in the 7th Environmental Action Programme. So, as you may know, the Commission adopted a communication around a year ago on circular economy, setting an ambitious package of actions aiming at transforming the European economy from a linear or semi-linear bent economy we have today, into a more or a total circular economy. And as part of this package, we are going to take actions related to chemicals. In particular, we are asked to develop a strategic approach on chemicals, including, amongst others, a commitment to analyse and propose options on the interface between REIT, products and waste legislation, including how to reduce the presence and improve the tracking of substances in articles. We also have to do a strategic approach on plastics. That entails the adoption of a strategy on plastics in the circular economy, addressing the issues of recyclability, reusability, biodegradability, and presence of hazardous substances of concern in certain plastics, as well as marine litter. These two strategic approaches will fit into what we are also working on now, which is the non-toxic environment strategy. So, how do they relate to chemicals, both the circular economy and the non-toxic environment? We see that the key entry point is the interaction between products waste and chemicals legislation, as a key aspect of circular economy. It's an important part of the successful transition of material loops and of protection from hazardous substances. In the moment something becomes waste, exempted from chemicals legislation and product legislation. It's subject to waste legislation and to the ways that they have to handle it and protect both the human health and environment, who can deal with it, how it should be processed, and how it should be traded around Europe and beyond. Waste processes are specific risks, and this is why it's subject to particular legislation. In a circular economy, a waste material becomes a resource. It becomes a raw material. It's called a secondary raw material, and at this point it's no longer subject to waste legislation. It's subject to product legislation, including chemicals legislation. So, we need clarity on the end of waste criteria, when one type of legislation applies and when does the other apply. We also need to set a level playing field for primary and secondary raw materials. If there is a decision that we are taking under chemical legislation to ban a substance because of the risks it poses to human health or the environment, we should make sure that we are not perpetuating it through recycling. We should choose then, at some point, between quantity and quality recycling. But all this will be in the benefit of the secondary raw material, as it will establish confidence that it qualifies and it complies with the same characteristics as the primary material. In order to improve the quality of recycling, we need to close the knowledge gap on substances in products. And we need to have information on the chemical contents of materials, and only like that we will be able to discriminate the materials at the waste stage. This material can go into recycling, can come back in the loop, and this material should be disposed of in an environmentally and human health sound manner. Also, better separation allows high volumes of waste to be recycled and a higher quality. In the moment that you don't have mixed materials, it's easier to get a better result. We also need to take into account that the circular economy, our circular economy in Europe, is not isolated. We get imported products, and those products may not be subject to exactly the same rules and bans that our products manufactured in Europe are. So we will always have the issue of legacy chemicals and the question of what we do with hazardous substances in the circular economy. As the circular economy, as I said, implies that the materials will stay in the economy for a longer time. It will be more difficult to take them out of the circle. So waste products can contain substances that are now restricted on the rich, but were not before. Equally, waste products can contain substances that came through imported articles, as I mentioned before. So we need to find the right balance between encouraging recycling and avoiding the re-entering of substances of concern in the economy. So we have to start from beginning, which is with product design. Right from when the product is designed, we must realize that at the end of the product life, the material is going to stay in the circle and try to avoid using these hazardous materials or ideally use them in a way that can be taken out before the material goes back in the circle. And this brings us back to an assessment also of the issue of substances in articles and avoiding the recurrence of hazardous substances in the recycling loop. I think that with this I will finish my presentation and thank you all for listening. Okay, thank you very much, Christina, for the very important issue you raised. I want... I want... Dovresti? Vabbè. Vabbè. Allora, tutti gli aspetti attualmente in sviluppo in ambito rich sono stati descritti da Cristina e commentati. da un punto di vista critico sui risultati attualmente ottenuti e saranno singolarmente questi punti dall'economia circolare, quindi i rifiuti e il riciclo dei rifiuti, affrontati nelle varie sezioni. Quello che è importante è che ci si aspetta dall'industria una maggiore partecipazione nel predisporre i dossier di registrazione ma anche di autorizzazione ed essere più interattivi con l'agenzia europea lì dove vi sono degli aspetti non conosciuti. L'agenzia è a disposizione dell'industria qualora l'industria debba individuare i CIEF e i consorzi entro cui entrare a far parte per poter fare una registrazione unica. e entreremo nel particolare di questi argomenti. Quello che voglio dire è che a febbraio del 2017 faremo una conferenza di confronto tra l'università e l'industria per instaurare una collaborazione tra l'università e l'industria al fine di trovare delle sostanze alternative a quelle SVHC contenute nella lista candidata. Questo impegno che prendo in questa occasione sarà mantenuto anche perché la Sapienza di Roma si è messa al resto possibile mettendo a disposizione delle aule magne per fare questa mega conferenza in cui utilizzeremo le risorse, sono parecchi miliardi di euro, 160 milioni di euro che sono stati messi a disposizione per l'innovazione e lo sviluppo. Ora l'industria potrà disporre da un minimo di un milione di euro secondo questo decreto e poi presso l'università dare il compito di trovare delle sostanze alternative alle SVHC. Io non so se Cristina, che ripeto essendo spagnola un po' di italiano lo mastica, è riuscita a comprendere quello che gli ho detto. è un'iniziativa nazionale molto importante e molto significativa creare questo trade union tra la ricerca universitaria e l'industria specie la piccola e media industria perché la grande industria ha i laboratori la piccola non ha laboratori di ricerca. Va bene. Grazie Cristina. Grazie. 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 Possiamo continuare questo nostro incontro cominciando a entrare proprio in merito all'argomento che ho appena espresso, cioè quello di dare un orientamento alle piccole medie imprese e chi più dello sviluppo economico e in particolare dell'helpdesk ha questo compito di comunicazione e di informazione. La dottoressa Francesca Carfi farà il suo intervento su questo argomento. sarebbe utile alla fine di questa sessione di poter avere domande da parte vostra. Dato che spesso e volentieri non si ha il coraggio di farle, noi accettiamo anche una procedura che ho frequentemente visto utile e applicata è quella di fare le domande su dei fogli di carta e poi passarcele, no? Noi prendiamo le vostre domande scritte e proviamo a dare una risposta tempo permettendo perché non abbiamo molto tempo. Mi comunicano qui che dovresti comunicare che a partire dalle ore 10 e 15 per un'ora ci sarà un coffee station allestita nel cortile dove sarà offerto un caffè con pasticcini. Io ho comunicato questa importante decisiva notizia per la nostra sopravvivenza e do la parola alla dottoressa Carfi che ci dirà qualcosa sulle piccole e medie imprese. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Francesca Carfi dell'Enea. Oggi sono qui in rappresentanza del Ministro dello Sviluppo Economico con cui Enea collabora dal 2010 e collaborerà fino al 2018, tutto il 2018, grazie ad un accordo procedimentale di collaborazione triennale esiglato nel 2016 per il supporto istituzionale e tecnico scientifico al Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi l'Enea affiancherà fino al 2018 il Ministero in tutti i suoi compiti istituzionali che sono in particolare velocemente la gestione dell'Alpodesk nazionale Rich, la partecipazione ai comitati ECA, in particolare al Comitato per l'analisi socio-economica, la creazione di una rete nazionale su base locale di assistenza alle imprese, la promozione di iniziative di formazione e informazione, il coordinamento del gruppo di lavoro confronto con le imprese, un sottogruppo del Comitato Tecnico di coordinamento in cui si dibattono le istanze di particolare interesse per le imprese e la partecipazione con un suo rappresentante al Management Board dell'ECA e la partecipazione ad un gruppo di lavoro della Commissione Europea, della DG Grow della Commissione Europea che riunisce i Ministeri dell'Industria dei diversi Stati membri. Il Ministero dello Sviluppo Economico quindi svolge il suo supporto su diversi livelli, quattro livelli più uno indicato, i primi due sono quelli che discendono direttamente dal regolamento stesso quindi l'Alpdesk ECA e l'Alpdesk nazionale Rich, le peculiarità però del tessuto produttivo italiano che è costituito da piccole e medie imprese, soprattutto da piccole e medie imprese e le competenze, la collaborazione quotidiana con le associazioni industriali hanno fatto sì di ampliare il supporto anche a livello più locale e generale. E sono stati quindi istituiti a partire dal 2011 degli sportelli informativi territoriali grazie alla stipula del protocollo d'intesa nel 2011 e una conferma nel 2015 per il supporto fino al 2020 con la rete Enterprise Europe Network che ha appunto dato a disposizione fornisce un'assistenza di primo livello alle imprese però su base locale e si è impegnata a svolgere delle attività di sensibilizzazione e informazione su base locale e sul regolamento Rich. I partner sono sette, sono diffusi su tutto il territorio nazionale e hanno ognuno di loro delle regioni di competenza. Il supporto del Ministro del Sviluppo Economico in prima istanza si realizza attraverso il portale dell'Alpdesk Rich che possiamo dividere in tre grandi aree, un'area che abbiamo chiamato di informazione che contiene tutte le informazioni, le notizie, i regolamenti di attuazione man mano che vengono approvati e pubblicati, una pagina dedicata alle piccole e medie imprese e la diffusione dell'informazione sugli eventi. Una parte destinata a strumenti che sono le questione in ansereca tradotte in lingua italiana, una checklist per l'SDS, il navigator per l'SVHC, il SEATool e dei moduli di formazione disponibili online sul sito dell'Alpdesk. Infine abbiamo l'assistenza personalizzata che è nata prima di tutto come risposta a quesiti attraverso il portale dell'Alpdesk Rich ma si è andata ampliando negli anni e attraverso il supporto di assistenza allo scaling grazie alle competenze dell'Enea nel campo degli scenari di esposizione e recentemente da un anno sono stati istituiti degli incontri faccia a faccia con le imprese che possono appunto chiedere un appuntamento con gli esperti dell'Alpdesk e sviscerare a tavolino la propria situazione aziendale. è in costruzione il nuovo sito dell'Alpdesk Rich e speriamo quindi entro la metà del 2017 di avere un nuovo sito dell'Alpdesk che raggiunga i seguenti obiettivi, aggiornare e ottimizzare gli attuali contenuti quindi svecchiare tutto ciò che è stato inserito nel corso degli anni, tener conto delle attuali esigenze di accessibilità quindi sarà possibile l'accesso tramite tablet e smartphone, dare maggiore risalto alle notizie e semplificare l'utilizzo sia da parte degli utenti che si collegano ma anche dei gestori del sito e coloro che appunto intervengono giornalmente sul sito. Quindi l'assistenza dell'Alpdesk ha quindi due principali obiettivi di divulgare le informazioni che provengono dalla Commissione Europea e dall'ECA, dalle amministrazioni pubbliche ma anche dalle associazioni industriali sia nazionali che europee, ma anche di supportare in modo personalizzato le imprese tenendo come bibbia il regolamento Rich. Dopodiché si utilizzano tutti gli altri strumenti di supporto che sono le questione Lancer ECA, le guide tecniche, i documenti ECA e della Commissione Europea, la piattaforma Elpex che è una piattaforma in cui dibattono tutti gli Alpdesk nazionali e in cui è possibile sia leggere i dibattiti del passato quindi i quesiti più complessi sia presentare nuovi quesiti che vengono posti all'Alpdesk nazionale italiano però che non trovano una risposta immediata nel regolamento e nel materiale di supporto. Ultimamente si è stretta la collaborazione con l'Alpdesk CLP perché comunque è nata l'esigenza di una collaborazione nei temi che sono comunque attinenti ad entrambi i regolamenti. Quindi il supporto dell'Alpdesk si realizza attraverso la risposta ai quesiti online, quindi risposte scritte ed incontri faccia a faccia. Gli utenti, gli utilizzatori sono principalmente imprese ma sono anche i SIT, cioè gli sportelli informativi territoriali che laddove non riescano a risolvere i quesiti che giungono loro in modo autonomo li sottopongono all'Alpdesk nazionale e quindi possono aggirare la loro risposta alle imprese. Abbiamo anche oltre alle imprese proprio del settore produttivo consulenti, avvocati, ispettori regionali che a volte si rivolgono a noi e imprese straniere. I quesiti hanno avuto un andamento alto allenante, ho messo solo dal 2010 al 2016, diciamo che abbiamo avuto dei picchi nei periodi delle scadenze di registrazione, però segnaliamo nel 2016 un aumento, abbiamo raggiunto già superato i quesiti del 2010, della precedente scadenza e questi sono i dati aggiornati a fine ottobre. Più o meno registriamo che i quesiti delle grandi aziende sono costanti nel tempo, ma aumentano notevolmente quelli delle piccole e medie imprese. Registriamo in quest'ultimo anno un aumento, l'ho scritto qua, dei trend, un aumento dei quesiti provenienti da consulenti, il che è un indice del fatto che le aziende al momento non riescono a far fronte in autonomia agli obblighi del regolamento riche, ma devono appunto cercare collaborazione esterna a pagamento. Sottolineiamo che se è disponibile sul sito ECA un documento, una check list per un'opportuna scelta della società di consulenza. Sottolineo ancora, come sempre, le criticità delle risposte. L'helpdesk non fornisce interpretazioni della norma, ma dà solo una guida alle imprese per trovare loro obbligo all'interno della norma. Le imprese rimangono sempre le sole responsabili delle decisioni assunte e delle azioni intraprese. L'helpdesk non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza e completezza del contenuto delle risposte. Lo diciamo perché ovviamente le risposte dell'helpdesk vengono utilizzate in sede di ispezione e poi ci si ripercuotono contro. Si risponde nel modo più completo possibile, però le aziende sono sempre responsabili di quello che poi decidono. consigliamo sempre di mantenere tutta la documentazione a loro disposizione che dimostri il percorso decisionale che li ha portati in una certa direzione nell'assolvere i propri obblighi riche. Laddove non si riesca a risolvere il quesito con gli strumenti a disposizione pubblici c'è necessario dibattere in altre sedi. Quindi facciamo a volte delle discussioni nel gruppo di lavoro confronto con le imprese. Anella sull'Elpex, dove appunto è la piattaforma in cui noi possiamo porre dei quesiti e attendere sia la risposta degli altri helpdesk nazionali ma anche e soprattutto dell'ECA in modo da fornire alle imprese una risposta diciamo condivisa anche a livello europeo. Alcune questioni vengono presentate all'Enterprise Support Policy Group su Research CLP appunto in Commissione Europea e talvolta ci sono delle discussioni in Caracal fino a raggiungere se proprio nell'ipotesi ben augurata di raggiungere un parere ufficiale della Commissione Europea. L'assistenza dell'helpdesk fornisce anche un supporto per l'attività per lo scaling che è utile per quegli utilizzatori a balle che ricevono una scheda di sicurezza estesa quindi con allegati scenari di esposizione e devono capire se la loro attività svolta con condizioni operative e misure di gestione del rischio diverse da quelle degli scenari forniti sono coperte. Il servizio è svolto grazie al supporto dell'Enea che ha realizzato un modello per effettuare lo scaling e risponde a questa casella di posta elettronica. È poco utilizzato quindi vi invitiamo a tenerlo in considerazione laddove ne abbiate necessità. In questi anni stiamo partecipando alla roadmap per la registrazione 2018 per aumentare la sensibilizzazione delle imprese nel settore chimico verso la registrazione. Abbiamo costruito una pagina per le PMI all'interno del portale dell'helpdesk e le PMI come sapete hanno dei privilegi almeno delle tariffe ridotte per le registrazioni ma sottoponiamo dove bisogna stare molto attenti ad un corretto dimensionamento di impresa. È disponibile presso il Ministro dello Sviluppo Economico la commissione per la determinazione della dimensione aziendale cui le imprese possono accedere solo per il tramite delle associazioni industriali. L'Italia ha proposto nel 2014 un'ulteriore riduzione delle tariffe per le PMI soprattutto per quelle che devono registrare più di una sostanza. Infine attività di formazione, organizziamo eventi in tutte le modalità e anche webinar perché in questo modo possano partecipare imprese dislocate in tutti i territori dell'Italia. Abbiamo realizzato un corso di formazione multimediale che è fruibile sia offline che online. Abbiamo partecipato in passato a master formativi e stiamo in questo momento cercando di sviluppare le competenze sull'analisi socio-economica. Si prevede infatti nel 2015 un'ipotesi di corso di formazione sull'analisi socio-economica. Grazie a tutti. Il problema, prima di ringraziare la collega dell'Enea perché l'Enea è praticamente l'organo tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico a cui si affida il Ministero dello Sviluppo Economico per tutte le proprie attività inerenti al regolamento. Quindi ringrazio l'ottoressa Garfi per il quadro che ci ha dato. E' quello che mi ha colpito di più lo scaling, cioè noi dobbiamo iniziare a fare bene i scenari di esposizione e di uso delle sostanze. L'anno prossimo la vigilanza si concentrerà a livello nazionale proprio sui scenari di esposizione e di uso delle sostanze. Quindi il CSR è applicato sugli impianti di produzione e sarà quindi importante che cominciate a organizzarvi in questo senso perché poi non vorremmo trovare delle situazioni assolutamente fuori dai tempi. Ora il caffè che è fuori è ancora caldo e siccome non possiamo uscire tutti e 300 altrimenti poi perderemo troppo tempo. Io darei la possibilità a una parte di voi andare a prendere questo caffè e poi rientrare e man mano che rientrano uscire altri. Se volete facciamo un 10 minuti in questo senso. No, non mi sembra che sia il caso secondo il dottor Zaghi. E' troppo tempo. Perché poi il caffè lo tolgono, capito? Quella mia preoccupazione. Ho fatto tanto per procurarvelo questo caffè che voi non avete idea. Adesso lo perdiamo, è un peccato. Allora passiamo alla successiva, ti voglio preparare le slide. Il successivo relatore che è il mio amico Leonello Attias del Centro Nazionale Sostanze Chimiche. Lui copre anche il ruolo di alternate al Comitato degli Stati Membri. E' almeno per me il mio più grande collaboratore, amico e viene con me anche al Caracal. Ed è sempre disponibile, generoso e preparatissimo. Ora lui ci parlerà della registrazione semplificata per sostanze registrate in quantità inferiori a 10 tonnellate anno. E' il controllo dei rischi. Credo che vada a pennello per una registrazione che nel 2018 riguarderà le piccole quantità. e quindi ascoltate un attimo quali sono gli obblighi che siete tenuti a rispettare e traetene vantaggi, frutti. Prego, Mello. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. Sì, io vi parlerò di un argomento che credo sia piuttosto interessante in considerazione della prossima scadenza di registrazione. siamo a un anno e mezzo dalla scadenza di registrazione del 2018 e per una parte di... qui vedete tutte le scadenze ormai sono passate, è rimasta solamente quella del 31 maggio 2018 per le sostanze nella fascia tra 1 e 100 tonnellate. Per una parte di queste sostanze, per una piccola fascia tra 1 e 10 tonnellate è possibile anche effettuare una registrazione semplificata ovvero fornire un set di informazioni ridotte, vedremo quando però dobbiamo anche capire come si fanno a controllare i rischi con le informazioni fornite. Infatti per le sostanze al di sotto delle 10 tonnellate l'anno non è prevista una relazione sulla sicurezza chimica quindi non sono previsti scenari di esposizione che vengono effettuati nell'ambito di questa relazione sulla sicurezza chimica e poi sintetizzati e allegati alle schede di sicurezza estese. Infatti la relazione sulla sicurezza chimica come vedete è prevista per le sostanze al di sopra delle 10 tonnellate quando queste sostanze sono effettivamente sostanze pericolose. quindi non sono previsti degli scenari di esposizione che ci permettono di capire le condizioni operative in associazione alle misure di gestione del rischio ed effettuare quindi un controllo adeguato dei rischi mantenere i rapporti di caratterizzazione del rischio sia per la salute umana che per l'ambiente al di sotto di uno quindi un rapporto in cui si dimostra un controllo adeguato dei rischi per la salute umana e ambientale. Ci troviamo di fronte a delle sostanze per le quali come vi dicevo non è richiesta una relazione sulla sicurezza chimica ma solo in alcuni casi solo quando le sostanze sono pericolose è richiesta una scheda di sicurezza altrimenti non è richiesta neanche una scheda di sicurezza. Quindi vediamo quali sono gli strumenti i documenti che sono importanti per capire che cosa dobbiamo fare con le sostanze che sono registrate tra una e le 10 tonnellate quindi abbiamo l'articolo 10 come vedete l'articolo 12 l'allegato 6 l'allegato 3 del Rich l'allegato 7 l'allegato 11 tutti questi documenti sono collegati tra loro è importante valutarli nel loro insieme capire se si sta parlando di un progetto di ricerca o sviluppo se la sostanza è un intermedio e naturalmente controllare tutti gli strumenti che l'ECA mette a disposizione che adesso vedremo nel dettaglio come il sito di disseminazione dell'ECA il PACT questo Public Activity Coordination Tool dell'ECA e tutto quello che c'è sulle sostanze la Candidate List l'allegato 14 l'inventario dell'allegato 3 adesso li vedremo nel dettaglio ma controlliamo prima questi documenti che vi dicevo e come sono integrati e collegati tra loro abbiamo l'articolo 10 del regolamento RIC che praticamente riporta quelle che sono le informazioni da comunicare ai fini generali della registrazione ovvero l'identità dei fabbricanti l'identità delle sostanze le informazioni sulla fabbricazione gli usi la classificazione ma come vedete sottolineato istruzioni sulla sicurezza d'uso per tutte le sostanze istruzioni sulla sicurezza d'uso e poi naturalmente i sommari degli studi tossicologici ed ecotossicologici l'articolo 12 sulla destra invece per quanto riguarda le informazioni tossicologiche ed ecotossicologiche e anche le informazioni da fornire con il dossier di registrazione praticamente ci dice quali sono le informazioni da comunicare in base al tonnellaggio ovvero oltre a tutte le informazioni disponibili previste dall'articolo 10 anche le informazioni previste dalla legato 7 del regolamento RIC per le sostanze tra 1 e 10 tonnellate tutte le informazioni per quelle sostanze che non sono soggette a un regime transitorio oppure per quelle sostanze che rispondono a 1 o ad ambedue i criteri riportati nell'allegato 3 del regolamento RIC che adesso vedremo oppure è possibile presentare questo dice l'articolo 12 solamente le proprietà fisico-chimiche quindi un set ridotto di informazioni quando le sostanze non rispondono ai criteri dell'allegato 3 l'allegato 3 praticamente ci dà un'indicazione su quelli che sono i criteri per decidere se una sostanza può essere considerata una sostanza a basso rischio o a meno sulla base di informazioni di screening informazioni preliminari i due criteri sono quelli praticamente che ci danno un'indicazione sulla base di chi usare o altre informazioni ad esempio che una sostanza possa essere possa presentare qualche allerta come CMR quindi come sostanza cancerogena mutagena tossica per la riproduzione di categoria 1A o B oppure l'altro criterio dell'allegato 3 è praticamente insieme sostanze con un uso diffuso e particolarmente dispersivo per le quali ci possono essere delle allerte che la sostanza possa presentare dei pericoli possono essere in qualche modo classificati quindi le sostanze che non rispondono a questi criteri possono essere considerate inizialmente come sostanze a basso rischio e per queste sostanze è possibile presentare un set di informazioni ridotto solo le proprietà chimico-fisiche descritte nell'allegato 7 quando sono soggette al regime transitorio quindi quando sono state preregistrate ecco qua vedete le informazioni previste dall'allegato 7 per quelle sostanze che rispondono almeno uno dei criteri dell'allegato 3 quindi tutte le proprietà chimico-fisiche anche alcune informazioni ecotossicologiche o alcune informazioni tossicologiche come vedete laddove le sostanze sono considerate a basso rischio è possibile presentare solamente le informazioni fisico-chimiche e però naturalmente ci troviamo di fronte la necessità quindi per sostanze per quali non è possibile avere informazioni relativamente allo scenario di esposizione quindi un controllo adeguato dei rischi valutato nell'ambito di una relazione sulla sicurezza chimica ci troviamo di fronte la necessità comunque di garantire una sicurezza anche per queste sostanze l'allegato 6 è importante in questo senso perché richiede alcune informazioni fondamentali per tutte le sostanze comprese le istruzioni informazioni sulla sicurezza d'uso qui vedete anche misure di primo soccorso misure antincendio manipolazione immagazzinamento informazioni sul trasporto ma soprattutto informazioni sull'esposizione quindi abbiamo delle informazioni importanti anche per questa tipologia di sostanze quindi informazioni sugli usi informazioni sulle vie di esposizione tutte informazioni fondamentali per capire quali possono essere i potenziali rischi di queste sostanze e inoltre quando non è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica l'allegato 6 prevede ulteriori informazioni sul controllo della protezione individuale controlli dell'esposizione le stesse informazioni che poi sono previste dalla scheda di sicurezza quindi per poter effettuare una registrazione semplificata è necessario che le sostanze siano pre-registrate quindi chi ha iniziato a produrre o importare prima del primo dicembre 2008 dovrebbe aver già pre-registrato chi ha iniziato a produrre o importare dopo il dicembre 2008 può presentare una pre-registrazione così dire una pre-registrazione tardiva ovvero deve essere effettuata questa pre-registrazione entro 12 mesi dalla prossima scadenza quindi deve essere effettuata entro il 31 maggio dell'anno prossimo il 31 maggio del 2017 quindi le semplificazioni possono essere valide semplificazioni della registrazione per le sostanze cosiddette a basso rischio non esistono allerte particolari per queste sostanze queste sostanze non hanno un uso particolarmente diffuso o dispersivo però abbiamo visto che le informazioni richieste comunque servono a garantire comunque una protezione adeguata quindi da un lato le informazioni ci danno una certa sicurezza su queste sostanze anche se è una registrazione semplificata dall'altro non è la stessa registrazione semplificata non è uno scherzo insomma ma sono molte le informazioni da fornire per una registrazione semplificata perfino nella fascia di tonnellaggio più bassa la comunicazione nell'ambito del CIEF e il controllo delle informazioni da parte dei registranti è estremamente importante quindi è estremamente importante controllare tutti quegli strumenti tutte quelle strumenti che ci dà anche l'agenzia ECA per capire qual è lo status di una sostanza se esistono delle allerte se esistono delle novità uno di questi è quello che vi dicevo prima il PACT il Public Activity Coordination Tool dell'ECA che contiene tutta una serie di informazioni sulle attività che stanno facendo dei gruppi di screening sugli interferenti endocrini e sulle sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti molto bioaccumulabili quindi lì è riportato chi sta facendo cosa in questi gruppi e il motivo per cui sta lavorando su queste sostanze inoltre sono riportate anche alcune intenzioni preliminari diciamo su attività di gestione del rischio ovvero eventuali proposte di restrizione preintenzioni su proposte di restrizione cosiddette diciamo RMOA Risk Management Option Analysis ovvero diciamo analisi della migliore strategia di riduzione del rischio quindi se uno Stato membro ha l'intenzione di effettuare una proposta di gestione del rischio elabora un documento RMOA e questa preintenzione che poi verrà discussa con gli altri Stati membri con la Commissione Collega viene comunque riportata su questo sito dove si può accedere per ogni sostanza nel dettaglio ai documenti specifici abbiamo ecco come vi dicevo dobbiamo controllare costantemente anche ad esempio la candidate list per verificare se una sostanza magari per alcune sue proprietà è stata inserita in questa lista di sostanze potenzialmente candidate all'inserimento nell'allegato 14 il sito pubblico di disseminazione dell'ECA dà informazioni importanti su tutti sono riportate tutte le informazioni non confidenziali presenti nei dossier di registrazione un altro strumento importante è proprio in considerazione dei criteri riportati nell'allegato 3 che vi dicevo prima è proprio l'inventario di sostanze che l'ECA ha valutato e che rispondono a quei criteri a quelle allerte riportate nell'allegato 3 l'allegato 3 questo inventario non deve essere considerato come una black list sono una serie di sostanze più di mille che sono state valutate con questi strumenti anche con delle chiusare anche informazioni relativi al loro uso e se dispersivo diffuso e presentano delle allerte per queste sostanze sarebbe opportuno fare una registrazione completa in base all'allegato 7 ciò non vuol dire che è obbligatorio chi ha delle informazioni che in qualche modo possono giustificare una registrazione ridotta lo può fare purché questa giustificazione sia dettagliata il sito dell'ECA contiene tutta una serie di altre informazioni rilevanti importanti ai fini della registrazione per la prossima scadenza del 2018 quindi ci sono dei webinar delle guide interattive quindi vi suggerisco di controllarle in questa che è la penultima slide vediamo un po' le varie fasi di quello che vi ho detto anche un po' il diagramma di flusso verificare quindi se la sostanza è nella fascia 1 10 tonnellate verificare se naturalmente è una sostanza CMR perché se è una CMR naturalmente dovrebbe essere già registrata e poi capire se la sostanza è stata immessa sul mercato prima o dopo il 2008 ed effettuare eventualmente una pre-registrazione tardiva e naturalmente controllare i criteri previsti dall'allegato 3 quindi le cinque fasi sono raccogliere le informazioni disponibili sulle sostanze chimiche verificare la presenza nell'inventario ECA per capire quali sono le informazioni disponibili vedere se è elencata in questo inventario dell'allegato 3 vedere se ci sono altre informazioni in letteratura e poi prendere le considerazioni più opportune tra le proprie conclusioni ultima questa guida pubblicata fine ottobre una guida destinata proprio alla registrazione nelle fasce di tonnellaggio compresa tra 1 e 10 tonnellate ma anche tra le 10 e 100 quindi per la prossima scadenza è una guida destinata alle persone incaricate alla raccolta nell'ambito delle imprese di tutte le informazioni necessarie a compilare il fascicolo tecnico di registrazione con questo concluso vi ringrazio per l'attenzione grazie Nello molto chiaro tutto quello che hai esposto che mi spinge a suggerire qualcosa che ho sempre detto in tutti i convegni a cui ho partecipato quello di oltre a tenere d'occhio la lista candidata e il pact di tenere d'occhio anche l'allegato 17 14 17 per restrizione 14 per le autorizzazioni avere sempre presente gli RMOA che vengono pubblicati e resi disponibili se vengono resi disponibili e qualora una sostanza rientra nel vostro pacchetto e la trovate in questi elenchi fatevi vivi verso le associazioni di categoria che sono tutte impegnate su questo fronte proprio ieri ho incontrato l'Afili l'associazione italiana dell'industria farmaceutica poi avrò modo di parlarvi degli intermedi ma questo lo faremo lo farò quando interverrò nel mio secondo il programma oggi pomeriggio ora passiamo passiamo siamo in anticipo di 10 minuti non mi sembra vero però non lo voglio sprecare adesso Gianluca Stocco mi entrerà nello specifico di un problema quello di avere la possibilità per le piccole imprese di entrare nei SIEF senza essere sfruttati fino all'osso dal leader registrante che è quasi sempre una multinazionale ma non è detto non è detto ora il regolamento SIEF che lei ha predisposto ha proprio lo scopo di dare fine a questa a queste azioni non tanto a volte legali di lettere di accesso alle stelle per non parlare poi degli stessi metodi di analisi anzi prima Gianluca prima di parlare vorrei dire una delle iniziative che dovremmo prendere con più decisione perché l'abbiamo sempre fatto con leggerezza presso il Caracal e presso la commissione è quella di avere un tarifario anche per i metodi di analisi cioè rendere i metodi di analisi trasparenti dal punto di vista dei costi è uguale in tutti gli stati membri in modo tale da non speculare su una cancerogenesi fatta in Spagna o fatta in Germania avere più o meno le stesse tariffe va bene questo comunque è una delle attività che dovremo sviluppare al più presto prego Gianluca ok grazie Pietro buongiorno a tutti ti ringrazio per avermi invitato assieme alla dottoressa Giannotti dello sviluppo economico a intervenire tra l'altro su un argomento a me molto caro appunto che è il data sharing prima di iniziare faccio una introduzione volevo citare sia perché sono docente nelle scuole di specializzazione di Padova e sono stato al Master di Napoli sia perché siedo di fianco ai due coordinatori volevo segnalare che a Padova stiamo chiudendo a fine novembre mi sembra il 25 l'iscrizione alla scuola di specializzazione che siamo al secondo ciclo e invece si aprirà a Napoli per la prima volta in fase di chiusura stiamo aprendo il bando che probabilmente si aprirà a dicembre per la scuola di specializzazione in rischio chimico che si terrà presso la Federico II di Farmacia ok quindi chiusa la parentesi di consigli per gli acquisti entriamo nell'argomento che mi è stato assegnato il data sharing allora questa slide l'ho costruita pochi giorni prima di venire qua perché cercando nei miei archivi ho trovato un documento del 17 settembre del 2003 e a quei tempi non vi sto a spiegare per quali motivi mi trovavo a Bruxelles per lavorare in qualità di esperto chimico e di piccole e medie imprese al tempo collaboravo con un'associazione proprio a studiare la bozza di regolamento per poi sottoporre ai politici del Parlamento europeo e come potete leggere nella parte in giallo ho trovato questa prima bozza della Commissione europea dove c'era una prima arcaico modalità di data sharing solo che si scriveva appunto che i dati il secondo registrante doveva riconoscere il primo registrante il 50% dei costi sostenuti quindi diciamo che a quei tempi questa parte della questa proposta diciamo di regolamento era parecchio impegnativa il dibattito politico è stato molto lungo ricordo che dal 2003 siamo andati alla chiusura al dicembre del 2006 e infatti nel regolamento RIC nel 2006 troviamo fortunatamente non troviamo più quella parte ma troviamo che i dati devono essere codivisi in modo equo proporzionale e non discriminatorio quindi vedete un passaggio in avanti dalla prima parte di bozza del regolamento RIC il regolamento RIC è stato fatto questo non è stato sufficiente perché con dieci anni di esperienza nella registrazione 2006 entra in virgola RIC prima scadenza 2010 2013 la seconda ci siamo resi conto e la commissione europea e l'agenzia si è reso conto che forse qualcosa non andava in questo concetto cioè quella della condivisione dei dati condivisione dei dati ricordiamo che è stata innovativa sia per il legislatore europeo sia per le aziende per andare a capire che cosa ci chiede il legislatore sulla data sharing noi abbiamo tre documenti a disposizione abbiamo il corpo di testo del regolamento RIC abbiamo la linea guida sulla registrazione e abbiamo una linea guida che è in fase di revisione la revisione prevista per il dicembre di quest'anno che è proprio tutta dedicata alla condivisione dei dati guida alla condivisione dei dati se andiamo a leggere il regolamento RIC troviamo che già nei consideranda il legislatore ci dice che bisogna trovare un modo per non duplicare i test sui vertebrati ecco anche ai tempi del dibattito politico questo è stato l'unico elemento fisso c'è una direttiva degli anni 80 che vieta la duplicazione dei test ma se con il RIC chiediamo alle aziende di registrare sostanze chimiche per i test dobbiamo passare dai consideranda poi passiamo all'articolo 11 c'è l'articolo 27 sono due articoli importantissimi che ci introducono nell'argomento l'11 ci dice che la registrazione deve essere fatta in modo condiviso cioè l'invio comune dei dati deve essere fatto e invece l'articolo 27 ci dà indicazione su come devono essere condivisi i costi questo è molto importante perché sarà un elemento che si ripeterà anche nella mia presentazione nella breve presentazione perché spesso invece noi facciamo un calderone di tutto intendendo per data sharing sia l'invio comune del dossier sia la condivisione dei costi questo era ciò che non andava vi ho riportato due esempi uno l'ho un po' criptato perché è una sostanza diciamo un intermedio farmaceutico e la seconda invece si può lasciare libera perché è la formal data che conosciamo e questo era quello che non andava nella Joyce Unmission cioè ci venivano a creare dei doppioni di dossier se vedete interessante è il primo caso perché addirittura per la stessa sostanza abbiamo tre distinti dossier addirittura che derivano da una nonce quindi stiamo parlando di una sostanza che era stata notificata con la 67548 e poi convertita dall'autorità alla registrazione riccia e stessa la formal data vedete noi abbiamo un full dossier e un dossier come intermedio ma in realtà i dati dell'intermedio possono essere una sotto insieme dei dati del full dossier e poi anche la condivisione dei costi aveva qualcosa che non andava e qui vi ho riportato un esempio tra i tanti di un estratto in forma anonima di una lettera d'accesso dove si chiede ai membri del CIEF si dà delle indicazioni su come sostenere i costi già la prima riga ci mette un po' di panico perché il leader registrazione dice beh per quanto riguarda il 50% di tutti i costi che io sostengo amministrativi test eccetera li dividiamo in parti uguali e questo è ovviamente svantaggioso non è equo non è proporzionale se pensiamo a una piccola media azienda che deve registrare la stessa sostanza e poi la cosa strana era anche il modo in cui venivano rivalutati i test vecchi anche di 30 40 50 anni quindi spesso il detentore dei dati ti riproponeva sul dossier test vecchi magari anche con delle incertezze a dei prezzi di mercato attuale e tutto questo ovviamente creava non poche problematiche soprattutto quando ti mettevano nell'agreement il sigillo della riservatezza dei dati con i quali tu membro del CIEF non potevi comunicare con nessuno il contenuto di queste informazioni ecco allora che il legislatore arriva a gennaio del 2016 e pubblica un regolamento pubblica un regolamento di quattro pagine molto semplice che però omette dei paletti fissi sia nell'invio condiviso del dossier articolo 3 sia in quello che è invece il data sharing cioè la condivisione dei costi tra tutti i soggetti interessati e come leggete nel consideranda 2 è il legislatore stesso che dice che c'è qualcosa che non va che non è andato fino ad oggi e che ve l'ho segnato in rosso ciò si è rilevato particolarmente pregiudizievole per le piccole medie imprese ecco perché come introduceva Pietro questo regolamento è un grande sostegno è una grande forza soprattutto per le piccole medie imprese che si accingono a fare la registrazione non solo per il 2018 attenzione perché vedremo dopo che questo regolamento è anche retroattivo il regolamento entra il vigore il 26 gennaio del 2016 quindi siamo a tutti gli effetti in pieno vigore questo è il riassunto di tutto il regolamento articolo 3 trasmissione congiunta dell'informazione articolo 2 e 4 invece condivisione dei dati in maniera ecoproporzionale la trasmissione comune dei dati dell'informazione nasce dal principio Osor ricordo che nel 2004 eravamo abbastanza impantanati durante il processo di dibattito perché se da una parte dovevamo trovare il modo per abbassare i costi della registrazione soprattutto e non toccare i vertebrati per non duplicare i test dall'altra c'era il problema che tutti dovevano registrare le sostanze ed è stato proprio agli ultimi pochi mesi prima della prima lettura al Parlamento che arriva la proposta anglo-ungherese mi piace fare un po' di storia visto che sono passati tre anni e la proposta anglo-ungherese è proprio la proposta Osor one substance one registration ma questa proposta cosa ci dice è rappresentato molto bene da questo schema tratto proprio dalle linee guida dell'agenzia europea della chimica che ci dice che i contorni vedete di una joint submission devono essere unici e tutto si deve sviluppare dividere e condividere dentro quei contorni quindi per una sostanza noi abbiamo questa grossa circonferenza il token che ci viene dato dal leader registrant è solo la chiave di accesso dentro a quell'ambiente dove però posso trovarmi in situazioni diverse come potete vedere da questi cerchetti non so come si vede dove c'è un leader registrant ci sono che è quello blu centrale dei leader registrant che sono quelli blu che tranquillamente condividono il 100% delle informazioni hanno trovato un accordo sereno diciamo con leader registrant poi abbiamo il cerchetto bianco dove potremmo avere delle aziende che fanno opt out che significa che io posso staccarmi dal leader registrant per alcuni dati per alcune informazioni semplicemente lo vedremo tra poco se io registro in una fascia più bassa non sono obbligato a fare i test ad esempio di cancerogenesi a lungo termine ok? quindi mi sgancio per quel pezzettino ma so sempre dentro là e la grande novità importante ribadita da questo regolamento è che anche il cerchetto giallo e quello grigio penso si veda grigio circa e possono stare dentro il contorno della one substance one registration chi sono quello giallo e quello grigio? beh, addirittura quello grigio e quello giallo e quello che addirittura non condivide tutto un pezzo del dossier di registrazione e quello grigio addirittura quello che non condivide niente del dossier di registrazione del leader registrant però la sostanza è la stessa e devono stare dentro lo stesso perimetro vedete della joy submission poi cos'è che fa la differenza? la LOA la lettera di accesso è lei che descrive il perimetro all'interno del quale io member registrant sto dentro a questa sostanza qua ed è la lettera d'accesso che deve essere il più dettagliata possibile che mi definisce se io sto condividendo tutto o parte dei dati attenzione che l'articolo 3,1 dà una grande responsabilità all'agenzia europea della chimica la quale deve garantire che tutti i dichiaranti della stessa sostanza siano associati nella stessa sostanza questo lo dico soprattutto per chi non è passato attraverso il processo di pre-registrazione deve fare un inquaerio a LECA facciamo finta che io domani decido di aprire un impianto di produzione di acetone per 200 tonnellate all'anno non ho più possibilità di godere del regime transitorio devo fare prima l'inquaerio a LECA poi LECA mi dice ok questo è il SIEF di appartenenza e LECA è una grande responsabilità deve in base all'inquaerio mio dirottarmi verso la giusta sostanza e quindi bisogna stare molto attenti alle informazioni che noi passiamo soprattutto a livello di purezza e di caratteristica sostanza spesso vediamo che gli inquaeri vengono rigettati dall'agenzia con sconforto delle aziende in realtà se l'agenzia rigetta un inquaeri vuol dire che non ha le idee chiare sull'identità di quella sostanza perché lei ha la responsabilità di indirizzarci nel cerchio corretto parlo del cerchio più grande articolo 2 e 4 condivisione dei dati trasparenza equità e non discriminazione che vedremo tra poco quando noi mandiamo un dossier di registrazione adesso non è più possibile mandarlo in maniera che si crei un duplicato sono un doppione e quindi state attenti che ECA cioè proprio il sistema della RICIT ti blocca cioè le business rule per passare all'invio del dossier di registrazione i business rule sono praticamente un check che viene fatto nel dossier sono state modificate appunto per fare in modo che ci sia la condivisione del dossier di registrazione se per caso vi si blocca attenzione che la cosa molto bella è che sarà proprio l'agenzia come un tutor che vi guiderà nei passi giusti per andare a definire come il vostro dossier deve essere fatto per entrare nella joint submission stessa cosa succede per chi va a modificare un dossier vecchio se voi andate a fare un update di un dossier di member registrant vecchio perché ad esempio dovete aggiungere un'informazione attenzione che quando lo rinviate il sistema delle business rule vi può bloccare perché vi richiede che quello se sia fatto secondo le caratteristiche di questo nuovo regolamento condivisione dei dati articolo 2 e 4 qui è un po' strano perché in teoria ci dovrebbe guidare il buon senso e soprattutto poi le norme di ordine superiore quindi del mercato nella condivisione dei costi dei dati ciò non è accaduto e quindi soprattutto a scapito spesso delle piccole aziende e quindi il legislatore ha chiarito che cosa intende per trasparenza equità e non discriminazione concetti già contenuti all'interno dell'articolato del riccio la trasparenza è tale per cui adesso il leader che detiene i dati deve dare le indicazioni di spesa di tutte le singole voci di spesa sia dei test che amministrative e di gestione e soprattutto vedete l'ho sottolineato in corrighello deve definire obbligatoriamente un modello di condivisione dei costi che comprende un meccanismo di rimborso il rimborso è molto importante perché mi ricollego al nota bene che ho messo alla fine della mia slide i dossier che noi mandiamo all'ECA sono vivi spesso le aziende pensano che aver mandato il dossier una sostanza non particolarmente impegnativa però guarda caso è entrata nel corap cioè nel piano a rotazione di valutazione cosa succede? entro il 2016 la Francia la Francia deve chiudere l'evaluation e se succede che c'è qualcosa di non chiaro in quel dossier o c'è qualcosa su cui indagare vengono richiamati in ballo tutti i registranti è già successo dal 2010 ad oggi per cui spesso arriva una lettera che ti dice guarda che devi aggiungere anche questo dato che ti viene fornito dalla leader registra cosa vuol dire? che tu devi ritornare ad aprire il dossier modificarlo reinviarlo questo magari richiede dei costi amministrativi dei costi di consulenza quindi le aziende devono comunque mettere a budget questo in più che cosa può succedere? che si aggiungono dei nuovi registranti dal 2018 in poi o anche adesso si aprono si sperano nuove aziende nuove importazioni e quindi si aggiungono all'interno di questi gruppi di aziende delle aziende che non erano state stimate e quindi c'è il processo del payback un bel processo quello del payback perché vuol dire che ti tornano indietro dei soldi che tu avevi anticipato perché non erano stati stimati ecco questo significa definire il modello un modello preciso che spieghi nel tempo come fare corro dalla parte destra invece ci dice quello che è equità e non discriminazione si capisce meglio con questa slide ricordiamo che è scritto nel testo del regolamento riche che non tutti presentano tutti i test e che un grande vantaggio per la PMI è che la registrazione i dati che mandiamo e quindi i costi che sosteniamo sono proporzionali alla fascia di tonnellaggio se notate ad esempio da 1-10 tonnellate non servono i test di allegato 8 9 10 dove ricordiamo che sono contenuti i test più impegnativi i test a lungo termine ok i test sui vertebrati quindi cosa significa che io quando vado a condividere i dati col mio leader registrant pagherò solamente quelli che riguardano l'allegato 7 dicevo prima che il regolamento questo nuovo regolamento è retroattivo cosa significa che se io sono un membro della registrazione è venuta nel 2010 2013 posso chiedere la trasparenza dei dati se non era stata fatta se sono un membro del SIEF che sta andando in registrazione nel 2018 posso chiedere la trasparenza dei dati vedete perché nel 2018 abbiamo ancora delle scadenze come abbiamo visto anche prima nella presentazione del dottor Attias mentre per tutte le sostanze nuove cioè quelle che fino adesso non sono mai state registrate ma che si andrà nel 2018 beh quello è in automatico dal 26 gennaio di quest'anno c'è l'obbligo di questo regolamento quindi la trasparenza e la condivisione ECA è a supporto di questo attenzione è stato rafforzato anche il ruolo di ECA a supporto di questo ed ha un ruolo molto importante nell'aiutare ad accedere i dati e a fare in modo che il tutto avvenga in maniera condivisa e attenzione che ECA è a supporto senza appunto spese di nessuna sorta e se la decisione è favorevole cioè ECA dice si stocco tu hai ragione il leader registrant ti sta chiedendo troppi soldi oppure ti sta dando nelle lettere d'accesso test che per te non sono dovuti vedete l'ECA stessa ti dà ragione e procede eventualmente a darti tutte le chiavi di accesso alle informazioni che ti servono in maniera tale di non bloccare il processo di registrazione che per l'azienda sarebbe vincolante perché senza quei dati tu non puoi avere il codice di registrazione quindi non puoi fare il business se invece la decisione non è favorevole attenzione non è che ECA ti abbandona alla deriva come ho scritto qua tra l'altro questi punti me li ha gentilmente passati la dottoressa Demi dell'Agenzia Europea della Chimica proprio perché abbiamo fatto un evento assieme su questo data sharing se il parere non è favorevole attenzione l'ECA ti dà tutte le dritte per poter modificare la tua posizione e andare concludo ricordando che sempre sul sito dell'Agenzia Europea della Chimica potete trovare questa utilissima pagina dove vedete dall'organizzazione dei SIEF alla raccolta dei dati alla condivisione dalle istruzioni a chi si accinge a gestire un SIEF o vuole aggiornare un SIEF preesistente vi ringrazio grazie grazie dottor Stocco il tuo intervento è completo io mi ero segnato alcuni aspetti come il rimborso l'opt out il rimborso ogni volta che entra un nuovo componente nel SIEF i costi devono essere rivisti e devono essere istituiti a tutti i facenti parti del SIEF chiaramente la somma viene il totale viene diviso tra più componenti vi è anche il discorso dell'opt out che vi è una una volontà non tanto espressa in modo perché non può essere espressa in modo deciso da parte della Commissione e dell'ECA di evitare gli opt out cioè la registrazione al di fuori del SIEF questo per evitare di avere dei dossier che sono incompleti o carenti di informazione si preferisce che la registrazione sia comune con tutti i componenti del SIEF e nessuno esca fuori presentando dei dati autonomamente che sono generalmente i dati riservati ecco perché lo fanno o anche perché non riescono a instaurare un rapporto tranquillo con i leader registranti comunque i regolamenti di cui ha parlato il Dottor Stocco è praticamente la soluzione a gran parte dei problemi che questi anni abbiamo visto nei SIEF e poi nei consorsi va bene è ora di passare alla presentazione di del Dottor Wilfredo Raimo che appartiene a un'industria dedita alla estrazione e emissioni in commercio di fragranze vi chiederete come mai abbiamo incluso nel programma questo settore delle fragranze e delle essenze perché è un settore in cui in Italia al detta di molti non c'è più granché ma in realtà risultano un certo numero di produttori italiani di essenze e questi hanno l'obbligo di registrarle sono generalmente delle sostanze OVCB a composizione variabile e non chiara in termini di identificazione dei componenti di queste sostanze allora per fare un quadro più chiaro sull'argomento e sono in prevalenza piccole e medie imprese quindi hanno un significato importante in questa fase di registrazione del 2018 prego dottor Maculan grazie buongiorno a tutti cercherò come ho fatto a Palermo di riassumere in 15 minuti quello che ho vissuto negli ultimi 10 anni quindi non è semplice e direi passare dalla teoria alla pratica io sono messinese e vi invito dato che non abbiamo ancora il ponte a venirla a vedere è la città il primo porto turistico d'Italia per il crocerismo e gli italiani non vengono a vederla mentre gli stranieri hanno capito che una delle più belle città è la Sicilia quindi chi di voi non c'è ancora stato dopo questa relazione mi auguro che avrà voglia di venire a visitare la mia città a giugno sono stato a Palermo invitato dalle persone che hanno organizzato la prima conferenza in Sicilia sul RIC e che ha fatto partecipare anche le aziende siciliane che sono interessate appunto alla registrazione e c'erano 20 o 30 persone quasi tutti i proprietari di aziende medio piccole anche piuttosto importanti per la Sicilia quindi passare dalla capitale del Regno delle Due Sicilie alla capitale italiana cambia l'auditorium cambia il numero di persone ma fa capire anche che il RIC di cui si parla da un po' di tempo comincia a essere una problematica importante che può cambiare la vita e la storia di un'azienda noi produciamo oli essenziali e succhi di agrumi da frutti che crescono in Sicilia e in Calabria quindi limone arancio mandarino e bergamotto abbiamo una produzione di circa 250.000 kg di olio essenziale e questa è la quantità che noi commercializziamo nel mondo circa 85% export tenete presente che questa quantità che vi ho detto 250.000 kg di olio essenziale corrisponde a 50 milioni di chili di frutto che noi trasformiamo trasformiamo alcuni giorni 300 tonnellate di mandarini o di limoni e siamo comunque una piccola media azienda ma questa è la dimensione delle più grosse aziende italiane nel 1960 quindi prima che io nascessi la Sanderson era la prima azienda al mondo negli oli essenziali la prima azienda al mondo e noi siamo stati abituati a considerare gli oli essenziali di agrumi come delle sostanze eccezionali perché andavano nei profumi e così via e ricordo quando ero bambino intorno all'etate di 10 anni alle scuole medie ho abitato per un anno sopra la azienda che avevamo a quel tempo poi noi ci siamo spostati e tutti i giorni venivano degli anziani a farsi dare delle bottigliette di olio essenziale di arancia amara di limone di distillato ogni anziano sapeva quale essenza scegliere per farsi passare un dolore se la massaggiavano sul ginocchio che faceva male sulla schiena guariva tutto quindi questi signori erano gli antisignani dell'aromaterapia che oggi è un fenomeno di dimensioni colossali che neanche l'industria aveva previsto vi posso dire che un'azienda americana che è nata nel 2008 in 8 anni è diventato un colosso e utilizza centinaia di tonnellate di essenza di agrumi quindi i nostri anziani avevano capito che questi oli essenziali avevano delle proprietà incredibili purtroppo un giorno nel 2006 abbiamo scoperto che le nostre sostanze erano oggetto di registrazione riche e all'inizio nessuno voleva crederci vi assicuro anche i più grandi esperti i centri di eccellenza il motivo per cui i nostri oli essenziali sono oggetto di registrazione riche è perché ricadono oggi nella classificazione r50 r53 cioè sono infiammabili e sono pericolosi per l'ambiente per fortuna quello che hanno dichiarato per anni il riche ci ha aiutato a dimostrare che non è esattamente vero il 50 53 non è la giusta classificazione per gli oli essenziali ma forse riusciremo a dimostrare l'abbiamo già dimostrato si tratterà poi di avere da Helsinki e da Lecca l'accordo a declassare a R51 53 perché in effetti gli oli essenziali non sono così pericolosi per l'ambiente l'ambiente riesce a ridurli e a non renderli inquinanti e non sono così pericolosi come si era pensato all'inizio e questo è uno dei punti forti del riche il riche ha permesso di fare dei test di fare dei controlli che hanno dimostrato che non lo sono così pericolosi come si credeva però rientrano comunque nella registrazione quindi noi nel 2006 abbiamo scoperto che come azienda dovevamo occuparci del riche vi dico è un percorso che è durato dieci anni io ho deciso in azienda di occuparmi di questo da un lato è stata dura però mi ha permesso anche di essere qui oggi quindi qualche vantaggio l'ho avuto è iniziata a Londra nel 2006 cioè nel 2006 come vedete lì ci hanno spiegato che purtroppo dovevamo registrare nel 2008 siamo stati a Francoforte ci siamo riuniti erano presenti 100 aziende circa che utilizzano questioni essenziali quindi immaginate che si va dal piccolo produttore al medio produttore all'utilizzatore quindi un'azienda come la Guerlain come la Dior deve e avere registrati i prodotti che utilizza per i propri profumi queste 100 aziende 60 delle quali erano membri di associazioni come l'FO e l'EF poi siamo stati a Niemeyen in Olanda e nel 2009 ed sono stati definiti i lead registrant per i sette le sette essenze di agrumi fondamentali si è parlato anche di altro ma diciamo io mi concentro su quelli che sono i prodotti di nostro interesse quindi ci hanno riunito hanno calcolato le quantità che ogni azienda il tonnage band di ogni azienda e chiaramente ci hanno chiesto di decidere chi sarebbe stato il lead registrant e ci hanno obbligato ad alzare la mano ognuno per la sostanza quindi per l'essenza d'arancia è stata designata l'azienda Miris tedesca sembra strano perché la produzione è in Italia però la Miris importa migliaia di tonnellate di essenza di arancio l'anno quindi era l'azienda col più alto volume e loro hanno dovuto registrare entro il 2010 per l'olo essenziale di limone è stata designata un'azienda di Forci Siculo in provincia di Messina la Misitano e Straguzzi per l'essenza di mandarino è stata designata la Simone Gatto l'azienda che rappresento nel volume band 10-100 tonnellate perché dalla lista dei produttori dalle liste delle quantità è venuto fuori che la Simone Gatto era la prima azienda produttrice di olio essenziale di mandarino in Italia e in Europa designati i nomi quindi noi sapevamo che avremmo dovuto registrare il mandarino come Lead Registrant poi ci sono stati vari altri incontri non sto qui a farvi tutto l'elenco della lista delle persone e degli incontri che abbiamo avuto a Grass a Neemeghan almeno due l'anno ma nel percorso poi vi dirò quali sono stati i punti salienti qui ho fatto una scheda breve giusto per dire che la Simone Gatto è un'azienda familiare al 100% con un terreno di circa 52 mila metri quadri 52 mila metri quadri come vi dicevo trasformiamo anche 50 tonnellate di frutta all'ora e produciamo oli essenziali abbiamo delle certificazioni ma passiamo al reach cosa abbiamo dovuto fare noi per registrare il mandarino innanzitutto abbiamo dovuto partecipare alla gestione dei SIF e concordare con le altre aziende in range analitici delle nostre essenze e che questo ha richiesto decine e decine di conference call in inglese con le aziende che avevano partecipato al SIF in cui si stava a discutere questi range e bisognava accordarli e non è stato semplice perché si è partito dal fatto che tutti volevano inserire nel mandarino la qualsiasi non so il clementino il tangerino i prodotti tagliati i prodotti non puri quindi è stata una battaglia dopo me direi quasi un anno di lavoro si è riusciti a stabilire qual era il SIF e presentarlo poi abbiamo dovuto partecipare e questo l'ha fatto mia sorella sia un corso CLP per la classificazione e il labeling e anche un corso su Euclid 5 ora è diventato Euclid 6 perché voi sapete che per registrare bisogna utilizzare un programma che era stato utilizzato per la chimica ecco diciamo che dall'inizio abbiamo capito che non saremmo mai riusciti a registrare le sostanze da soli questa è la verità perché non abbiamo tossicologi non abbiamo esperti sì ci sono tre chimici in azienda ma il rich è un'altra cosa e quindi il discorso abbiamo sentito prima di rivolgersi ai consulenti è stato importante anche per noi quindi il primo step che abbiamo fatto nel 2008 abbiamo pre-registrato tutte le sostanze che produciamo mandarino, arancio, limone, bergamotto anche perché andava fatto entro una determinata data il secondo step è stata la notifica tramite il RICT della nostra classificazione delle etichettature eccetera considerate che abbiamo circa 15 sostanze che sono etichettate in modo diverso ho anche partecipato a cinque tavole rotonde che si sono svolte a GRAS con aziende del settore e lì è stato importante perché abbiamo visto ad esempio che i francesi rispetto agli italiani erano molto più avanti loro col problema della lavanda e dei piccoli produttori di lavanda hanno capito che avrebbero chiuso tutto che la lavanda sarebbe morta quindi si sono associati hanno creato dei consorsi per poter registrare in questo sono stati i più bravi di noi perché noi siamo indietro per le piccole aziende da questo punto di vista e vi dirò che siamo stato anche ad Helsinki è stato un bel viaggio perché dall'aereo si vede quella parte dell'Europa con la neve poi c'era meno 20 lì quando sono arrivato insomma e siamo stati a Lecca che è anche una bella esperienza per chi a Lecca si capisce si può dire tutto qui ci sono cose proibite che c'è un certo numero di persone che hanno trovato lavoro lì per carità anche persone molto molto competenti e persone del settore che magari erano un po' verso la fine del lavoro e sono riusciti credo ci siano 600 dipendenti e quindi siamo stati ricevuti in una sala sembrava di entrare non so in una zona proibita comunque molto molto gentili sei persone della commissione ECCA da un lato e sei produttori di essenze dall'altro lato e siamo usciti da lì molto avviliti perché praticamente ci hanno detto che le nostre sostanze non andavano registrate come UVCBs ma bensì come multicostituent cioè in effetti sono due percorsi per registrare e qualche persona dell'ECA più rigida qualcuno più elastico comunque posso dire che due terzi delle sostanze naturali sono già state registrate come UVCBs quindi spero che non boccino i due terzi dei dossier e un terzo delle sostanze sono state registrate come multicostituent in effetti la logica diceva che andavamo andare al multicostituent però vi assicuro che nessuno di noi riusciva a immaginare di scrivere su una stessa tecnica invece di olio essenziale di mandarino reaction mass tra gamma terpinene e limonene con nomi UPAC ci siamo rifiutati abbiamo detto sono olio essenziali hanno un buon profumo li abbiamo utilizzati per massaggiarsi non ci rifiutiamo di registrarli come un prodotto chimico devo dire che le persone dell'ECCA di Helsinki sono poi venute in Francia a tutte le riunioni sono state in contatto con noi hanno dimostrato un'apertura totale e quindi mano nella mano siamo andati avanti e ha permesso questo di registrare le sostanze e nessun dossier degli oli essenziali agrumari è stato reggettato sia perché l'identificazione era corretta gli step fondamentali erano corretti hanno richiesto alcune modifiche però vorrei dirvi che comunque la registrazione degli oli essenziali agrumari italiani è andata avanti bene e i quattro prodotti sono stati registrati Miriz e Misitano nel 2010 Simone Gatto nel 2016 la ditta cavo per il bergamotto anche nel 2016 ancora ci sono delle parti da completare l'adeguamento delle schede tecniche in 16 punti la preparazione dell'exposure scenario che sta facendo il nostro consulente e volevo anche farvi vedere questa scheda cosa è costato alla Simone Gatto sino ad oggi registrare le sostanze noi abbiamo fatto una registrazione come lead registrant il mandarino arancio e limone in joint submission col token e ci apprestiamo a fare il bergamotto nel mese di novembre dicembre per completare entro il 2016 perché abbiamo voluto completare entro il 2016 anche questa è una cosa un po' delicata e non potrò dire tutto ma diciamo che le aziende mondiali della profumeria quindi dalla Dior alla L'Oreal vi parlo di Colossi di aziende che voi conoscete le dimensioni hanno capito che alcune sostanze non sarebbero state registrate che molti dei fornitori erano in ritardo e che di fronte a noi c'è un grandissimo rischio che alcuni fornitori scompaiono che alcune sostanze non vengono registrate e per loro una crisi perché nel momento in cui viene a mancare una materia prima loro devono riformulare immaginiamo che non venga registrata l'essenza di mandarino sarebbe un drammo per fortuna è una cosa fatta ma questo si applica a tutto io credo che siano metà le sostanze registrate e poi il 2018 è la scadenza che fa capire che i rischi sono molto più alti perché si passa come dicevamo alle piccole e medie aziende che non hanno all'interno gli esperti quindi la Simone Gatto ha già sostenuto costi per circa 90.000 euro prevedo almeno altri 30.000 da ora alla fine della registrazione quindi maggio 2018 è importante anche farvi vedere vi ho fatto uno schermino qui sotto cosa chiede il Citrus Consortium di cui noi facciamo parte per dare la lettera of access a coloro che non sono entrati a far parte del consorzio in tempo debito i costi per il volume band 1-10 tons sono 18.000 euro per 10-100 28.000 euro non andiamo oltre perché sono pochissime le aziende che vanno oltre questa quantità questo è solamente il costo della lettera of access a cui dovete poi sommare il costo proprio io in questi 90.000 euro non vi ho messo i viaggi che ho dovuto fare li ho lasciati da proprio costo puro e per finire quali sono i vantaggi fondamentali del Rich secondo me i vantaggi potrebbero essere due innanzitutto questo è un po' egoistico che chi ha registrato rimane sul mercato anche se bisognerà vedere come e quando verrà applicata la legge perché poi va allo stato membro io stamattina ho preso un taxi per venire ho messo la cintura di sicurezza il sedile posteriore il tassista ha detto lei è il primo italiano che mette la cintura nel sedile di dietro è una legge da 20 anni però effettivamente quindi non so come e sono convinto che le autorità aiuteranno le aziende cioè in una prima fase sul Rich si cercherà di aiutare coloro che hanno difficoltà per cui rimango ottimista ma è un vantaggio c'è un'azienda che ha registrato si può presentare all'estero con un numero di registrazione rispetto a chi non ha registrato vi assicuro che la L'Oreal non acquisterà da chi non ha registrato questo è garanzia al di là di come l'Italia applicherà la legge un altro grande vantaggio che potrebbe venire ci spero è quella classificazione che da R50 l'ECA potrebbe accettare R5153 questo permetterebbe di passare sulla legge Seveso da 100 tonnellate di massimo stoccaggio per un'azienda a 200 tonnellate senza necessità di andare a sistemi di sicurezza antincendio che hanno dei costi che farebbero chiudere la maggior parte delle aziende i problemi esistono cioè ci sono piccole aziende e medie aziende che ancora sono in ritardo non hanno registrato e mi auguro che ci riescano però direi di lasciare questa parte pessimistica io avrei terminato l'unica cosa che vorrei fare se voi avete ancora tre minuti di tempo vi vorrei far vedere un piccolo video è possibile? vediamo se riesco a farlo dovrei però tornare indietro alla parte iniziale qualcuno sa come fare a tornare alla pennina così magari prima di andare via a parte i problemi del reach vi rimane un minimo ricordo il volume il volume il volume ehi qua ci vuole il volume però fermiamo forse devo tornare indietro ok va bene va bene il volume va bene 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 grazie a lei grazie alla sicilia e grazie a riccia al vostro invito grazie a lei grazie a lei dottore di una presentazione così interessante e problematica problematica per un motivo molto semplice che noi delle ricce no più o meno qua sono tutte facce conosciute non è dopo dieci anni di frequentazione ci conosciamo un po' tutti siamo sempre gli stessi e diciamo che è una grande famiglia e quella della la vostra famiglia io non non mi risulta che ha fatto parte di questa nostra grande famiglia no cioè la il settore delle essenze a noi era praticamente sconosciuto ed è stata lecca a dieci ragazzi volete mantenere questa produzione in Italia o volete che venga fatta fuori eliminata e da questa iniziativa dell'Eica di Christian Musse noi ci siamo attivati siamo attivati per individuare chi fa questa produzione però non abbiamo mai avuto con voi nessun dialogo cose che abbiamo avuto vedrà con i coloranti cose che abbiamo avuto con i tessile con voi niente voi per noi siete dei grandi sconosciuti eppure noi che collaboriamo con l'Eica noi che collaboriamo con la commissione abbiamo delle potenzialità di sostegno alle imprese direi potenzialità elevate notevoli no? proprio perché se si sta in un dialogo se voi rimanete sconosciuti come dobbiamo fare? non possiamo darvi una mano perché non sappiamo i vostri problemi ora queste piccole e medie imprese di cui parlava per carità chi le vuole tirare fuori dal mercato? non abbiamo minimamente questa intenzione quindi tutto il supporto che possiamo dare dal punto di vista autorità competente rich ed enforcement vigilanza vi verrà data sempre rimanendo nelle regole però cioè non si esce dalle regole dei regolamenti europei si rispetta però questo non vuol dire che voi dobbiate rimanere soli come ha fatto vedere i vari incontri a livello internazionale veramente in Francia a Parigi sono stato invitato io non sono andato perché prima cosa la materia mi era strana e quindi io se vado poi mi aspetto domande e risposte devo essere in grado di rispondere essendo ignorante per esempio questi prodotti sono prodotti vegetali ora esiste un allegato quarto un allegato quinto del riccio che esclude i prodotti che vengono dalla natura dalle rocce alle piante è chiaro che il processo di estrazione deve essere tale da rientrare in quella in quella in quegli allegati perché bisogna non fare le reazioni chimiche altrimenti escono fuori dagli allegati quarto e quinto del riccio ora ci aspettiamo nei prossimi giorni da domani in poi di conoscervi sentire i vostri problemi e trovare le strade insieme per risolverli non speriamo che registrano e non rimangano fuori da questo discorso non vale non non lo accettiamo come discorso valido ora prego voleva voleva dire qualcosa è una cosa molto positiva secondo me indispensabile siamo in tempo e deve avvenire bene grazie e sostiene questo che ho detto adesso diamo la parola scusate diamo la parola a un settore di cui ci siamo interessati tutti il ministero dell'ambiente il ministero della salute il ministero del sviluppo economico gli istituti tecnici il CSC l'ISPRA e l'ENEA e sono i coloranti un settore in cui vi sono se non erro poi mi correggerà il dottore che interverrà subito dopo di me Maculan e Christian Maculan e sono un bel po' un numero enorme di sostanze che costano pochissimo al sul mercato e vengono vendute in piccole quantità e devono essere anche queste registrate e per cui si si è fatto di tutto con Mario Negri abbiamo cercato di stabilire un rapporto su queste sostanze sul RIDACROSS sul QSAR si sta ancora lavorando su questa materia e adesso uno spiraglio importante si è aperto nel senso che mi è stato detto da dottor Raff Knauf della Federchimica che forse la moda di produrre all'estero questi tessuti colorati e invece di comprare i prodotti qui in Europa e tingere i tessuti in Europa allora non vorrei fare tutta la presentazione per finire che lui non ha nulla da dire sentiamo un attimo cosa ci racconta buongiorno a tutti grazie allora il nome il tema della presentazione ve l'ha già spiegato il dottor Pizzo Tolese io passo a dare un mio contributo cominciando a spiegare cosa sono i coloranti i coloranti sono delle sostanze chimiche che interagiscono con delle materie su cui vengono applicate e vengono utilizzate perché hanno delle particolari capacità di conferire un colore dove vengono applicate e per le industrie per cui sono qui rappresento i coloranti vengono utilizzati per scopo alimentare nell'industria del tessere del cuoio della carta del legno della farmaceutica ci sono due tipi di possibilità di classificare i coloranti in base all'impiego tintoriale e quindi ci sono ci possono essere le classi dei coloranti acidi basici ammordenti pigmentari reattivi altino all'ozofo disperso oppure un altro tipo di classificazione si basa invece sul gruppo cromoforo cioè sulla loro struttura chimica in questo caso andiamo a costituire altre classi che sono le classi dei composti azoici antrachinonici gli organometalli miscele o sostanze uvcb di difficile caratterizzazione l'azienda per cui lavoro la colorex è un'azienda del vicentino che opera nel settore da più di vent'anni e una piccola e media industria secondo come configurata dal regolamento rich e opera nel settore dei prodotti chimici e coloranti per industria cartaria faccio questa breve premessa per cercare poi di spiegare con questo schema blocchi quanti sono le sostanze che un'azienda come la mia deve commercializzare il campo di utilizzo è quello dell'applicazione sulla cellulosa si possono utilizzare su questo supporto coloranti solubili in acqua o insolubili nel caso di solubili vedete che ci sono già cinque list cinque categorie di coloranti che si possono utilizzare nel caso di solubili invece ho sintetizzato con due tipi i dispersi e lo zolfo che sono i coloranti che si possono applicare parlando di pigmenti si possono utilizzare anche questi pigmenti che sono di tipo minerale azoico o fetalocianine in generale per capire con lo schema blocchi ho cercato di dare una sintesi di un certo tipo di categorie per capire il quantitativo di coloranti che in questo caso parlo io ha bisogno di industria cartaria ho provato a fare questa formuletta il numero di coloranti deriva dalla somma di addendi quali la tipologia superstrato su cui si applica il prodotto la tinta che si vuole ottenere le normative per cui il prodotto finale deve essere conforme particolari caratteristiche tecniche che il cliente richiede come esponente questa formula ha il marketing nel senso che le decisioni di marketing determinano stagionalmente che tipo di prodotto l'industria vuole e che può cambiare di anno in anno il marketing è inteso nell'industria cartaria se andiamo a parlare del comparto tessile del cuoio andiamo a identificare il marketing come moda tutto ciò porta ad avere per le piccole e medie industrie che operano nel settore del tessile del cuoio della carta un interesse per circa 600 coloranti 500 dei quali dovranno registrare per via delle loro fasce a tonnellaggio dovranno essere registrate per il 2018 400 sostanze sono dall'1 alle 10 tonnellate quindi il più basso tonnellaggio per la registrazione cosa da non sottovalutare per altri discorsi è che tutti i nostri coloranti sono importati dalle zone del fariste questa slide è l'assalto perché è già stata presentata prima di cosa prevede il regolamento RIC per le registrazioni in queste fasce di tonnellaggio che cosa abbiamo fatto come attività in questi anni per cercare di adempiere il regolamento RIC abbiamo nel 2012 assieme ad altre 10 aziende italiane e una olandese costituito una cooperazione chiamata assistita da FederChimica e coordinata del centro RIC per trovare delle soluzioni economicamente sostenibili per adempiere il RIC negli ultimi tre anni sono stati raccolti oltre 200 documenti per fare un database dei dati scientifici disponibili senza doverne fare di ulteriori nuovi e con l'istituto Mario Negri da quattro anni stiamo collaborando per sviluppare dei modelli cussare in alternativa sui test animali questo al fine di poter adempiere alle numerose si parlano quasi 500 sostanze registrazioni per il 2018 il progetto il lavoro con l'istituto Mario Negri era parte integrante di un progetto cofinanziato dalla comunità europea il PROSIL che prevedeva l'applicazione dei metodi in silico per la definizione del profilo tossicologico ed ecotossicologico di sostanze chimiche come coloranti e altre sostanze affine ho sempre parlato anche in questo slide della database che abbiamo costituito purtroppo anche con i metodi di cussare che abbiamo utilizzato cercato di utilizzare abbiamo sì ulteriormente espanso il database ma i dati non sono esaustivi ai fini del ruovamento ricce per tutte le sostanze ho parlato di cussare e ridacross cerco un attimo di farvi comprendere che cosa si tratta i modelli cussare sono dei modelli matematici che possono essere utilizzati per predire in modo qualitativo o quantitativo le proprietà chimico fisiche biologiche ed ecotossicologiche o il destino ambientale delle sostanze sulla base della loro struttura chimica il secondo tipo di categoria che prima ho cercato di spiegare i coloranti i ridacross invece un metodo che prevede che per molecole strutturalmente simili si dovrebbe poter stimare le proprietà sconosciute partendo da molecole le cui proprietà sono note se queste hanno delle analogie strutturali ho ripreso dall'agenzia europea questa slide in cui viene un po' graficamente spiegato che cos'è il ridacross e cos'è il cussare i puntini rossi i puntini verdi ci sono e allora nelle colonne nelle quattro colonne ci sono quattro sostanze di cui si dispongono solo di alcuni end point gli end point in questo caso sono quattro l'end point 1 del sostanza 1 si ha il dato sperimentale e con un metodo ridacross si riesce a colmare la lacuna per la sostanza 2 sfruttando l'analogia chimica strutturale con la sostanza 1 nel caso invece dell'end point 4 per nessuna delle sostanze si ha a disposizione dei dati scientifici questo è il caso in cui conviene poter pensare di utilizzare i modelli cussare i modelli cussare in particolare la piattaforma vega è stato utilizzato e è stato anche quello utilizzato per lo screening delle sostanze da inserire nell'allegato 3 che abbiamo visto nelle precedenti relazioni sempre il modello vega è utilizzato come esempio nelle linee guida stesse dell'agenzia europea quando va a discutere dei modelli cussare cosa abbiamo ottenuto attraverso il lavoro svolto con l'istituto Mario Negri siamo partiti valutando la situazione al tempo e di cosa i modelli cussare permettevano di poter predire vedete nelle colonnine quasi invisibili rosse il grado di accuratezza che i metodi vecchi chiamiamoli vecchi o esistenti riuscivano nel caso in cui venissero utilizzati per la valutazione di coloranti riuscivano a dare risposte soddisfacenti da un punto di vista scientifico abbiamo visto che per come era la situazione il cussare non era utilizzabile nel nostro caso allora con l'istituto Mario Negri abbiamo sviluppato dei nuovi metodi in silico e questi hanno dato dei risultati invece molto buoni cioè siamo riusciti a sfruttare il principio del cussare però abbiamo dovuto implementarlo costruirlo per adeguarlo a particolari sostanze che avevamo bisogno di avere da predizione dei dati sono nati tre nuovi modelli il SARPI il KNN e il Logistic Regression che hanno un grado di accuratezza molto buono quindi una validità scientifica che può essere valutata in modo serio in fase di anche presentazioni in un dossier i modelli sviluppati saranno implementati nella piattaforma Vega parlo un attimo di che cos'è il RIC a livello finanziario per una piccola e meno industria come quella per cui rappresento i costi diretti possono essere identificati come quelli derivanti dalla identificazione della sostanza i costi classici che possono variare dai 25 a 35 mila euro per i dati richiesti del legato 7 poi ci sono una parte di costi per preparazione del dossier la tassa di registrazione che quella vabbè è fissa e non ci si scappa tutti questi costi sono stati comparati a quelli con delle lettere d'accesso di sostanze coloranti già registrate nel 2010 2013 sono stati valutati all'interno del gruppo anche i costi indiretti i costi indiretti sono le risorse umane che devono essere dedicate a seguire il regolamento riche e che generalmente vengono tolti dalla ricerca sviluppo dana quindi ne consegue una minore possibilità di innovazione perché i dipendenti sono impiegati a fare riche e non ricerca una perdita quindi di competitività rispetto ai paesi non riche ci sono i costi per le organizzazioni delle aggregazioni e i costi per i consulenti esterni le criticità sono qualche punto per fare una sintesi del discorso più ampio le piccole e medie industrie del settore coloranti come quella mia ha qualche centinaio di sostanze da registrare per il 2018 tra le 1 e 10 tonnellate ci sono problemi legati alla quantità dei dati e alla qualità di quelli che ci sono trattando sostanze importate dal farista i nostri fornitori non ci danno assistenza del tipo tecnico né del tipo finanziario per adempiere il regolamento riche ci sono poche società interessate alla condivisione dei dati per la ridistribuzione dei costi considerando il costo medio per la produzione di un dossier tradizionale se si va a fare il conto per tutte le 500 sostanze di cui ho parlato si va a pensare alla spesa tra i 12 e i 17 milioni di euro i costi dell'Eloa abbiamo delle sostanze coloranti già registrati sono mediamente elevati e si ha difficoltà a ottenere la trasparenza e la proporzionalità dei loro costi si è notato che facendo un conto costo euro tonnellata delle registrazioni le registrazioni a basse tonnellaggi sono molto più costose impattanti rispetto a quelle ad alti tonnellaggi si ha quindi una perdita di competitività rispetto ai paesi non europea e una mancata innovazione cosa ha portato lo studio attraverso il cursari da cross ha portato a poter ipotizzare un dossier con 13 mila euro di spesa 9 mila euro può essere una stima per identificazione ai testi chimico fisici 2 mila euro per un costo procurata per sostanza per database cussara 2 mila euro si coprono i costi interni e quelli per il dossier euclid 6 purtroppo non per tutte le 500 sostanze si può avere un profilo di questo tipo di costi siamo coscienti che le piccole e medie industrie ora come ora non sono in grado di affrontare i costi per gli studi in modo tradizionale come vengono intesi per il ricce si ipotizza che almeno 200 250 sostanze coloranti non saranno registrate per via che non sono economicamente sostenibili anche perché il discorso moda prevede il fatto che oggi viene venduto un determinato colore domani non è detto si prospetta un possibile aumento dell'importazione di articoli finiti perché non devono soddisfare il regolamento riche quindi diciamo ci arriva la cosa bella pronta e fatta e tutto il know-how della conoscenza italiana di questi prodotti verrebbe un po' persa e le sostanze comunque entreranno comunque in europea attraverso i prodotti finiti finito grazie perfetto dottor marco perfettamente nei tempi io non faccio commenti per rientrare nei tempi qui siamo fuori di un quarto d'ora interviene adesso il dottor marco rossetti dell'associazione tessile salute di biella e vabbè illustrerà i problemi del settore tessile e mentre metto le slide che non è solo quello dei coloranti ma ci sono anche problemi su altre sostanze come il biglomato di sodio prego dottor rossetti buongiorno a tutti grazie pietro dell'introduzione ma soprattutto grazie al relatore che mi ha preceduto perché ha quasi messo le mie conclusioni per cui non dico che ha detto tutto lui però voglio dire porto diciamo un aspetto un po' borderline rispetto alla platea perché vi parlerò di che cos'è il rapporto fra la moda italiana voglio dire qualcosa come il 100 miliardi di fatturato e un buon peso della bilancia dei pagamenti quindi qual è il rapporto della moda italiana con il rich quali sono le criticità fermo restando che abbiamo un ottimo rapporto con il ministero della salute e con i vari ministeri competenti per cercare di affrontare le tematiche e le problematiche prima che sorgano però tant'è queste ci sono anche perché poi il mercato va anche molto oltre il rich già ora solo uno slide per dire cos'è tessile salute ma semplicemente perché se vedete nella slide in tessile salute ci sono tutti gli stakeholder a livello nazionale che hanno a che fare con il tessile compresa Camera Nazionale della Moda che è stata citata prima Camera Nazionale della Moda è l'associazione che racchiude i 120 brand italiani ma da Prada Armani, Gucci, Valentino tutti diciamo che lì se è cambiato notevolmente bisogna una parola forse non esatta la sensibilità su queste tematiche per cui quanto ha detto prima Pietro di una possibile collaborazione tra Camera Moda e Federchimica e guardalo l'amico in sala sull'esempio la tutela dei coloranti di cui si parlava prima è un dato di fatto perché le i brand della moda a livello internazionale soprattutto della moda del lusso hanno bisogno stanno incominciando diciamo ad aver bisogno di filiere garantenti in modo che siano le stesse filiere che danno autorevolezza al brand e viceversa se volete il motivo per cui brand francesi si stanno comprando pezzi di manifatture italiane è chiaro che se queste manifatture italiane non hanno più a disposizione le sostanze chimiche per produrre la vedodura per cui una lobby nel senso buono all'anglosassone tra camera della moda Federchimica produttore di coloranti direi che è possibile anzi sarà attiva credo nel brevissimo termine quello che il Grice affronta poco visto che la moda italiana è fatta da centinaia o migliaia di PMI è la sostenibilità industriale del Ric parlando di aziende manufatturie io non parlo di aziende chimiche parlo di aziende tessili piuttosto che conciarie allora per affrontare questo argomento ho utilizzato alcune slide che ho usato all'istituto commercio estero perché nell'anno scorso noi abbiamo fatto uno studio per il ministero dello sviluppo economico sui rapporti fra gli Stati Uniti e l'Europa noi ci occupiamo di ecotossicologia di questi articoli nell'ottica del TTIP poi magari TTIP non vedrà mai la luce però il mercato statunitense è paradigmatico rispetto al mercato globale cioè se io esporto in qualsiasi paese più o meno mi trovo le stesse problematiche e sono tutte tutte sistematicamente a scapito delle PMI manifatturiere esportatrici italiane non c'è nulla a favore con tre problematiche lo divise così una è la normativa pubblica di cui so parte anche il rich naturalmente una serie infinita di capitolati privati poi vi racconterò brevissimamente alcune cose e anche dei rischi per i consumatori sono tre problematiche che impattano sulle PMI produttrici manifatturiere esportatrici in modo decisamente importante la normativa pubblica a parte il fatto che ad esempio fra gli Stati Uniti e l'Europa non c'è nessuna volontà di condividere le leggi quindi non c'è nessun modo anche nell'ottica del TTIP se si andasse avanti se ci fosse un mercato comune di avere regole cogenti condivise gli Stati Uniti manco per idea che vogliono prendersi lo dico brutalmente il regolamento RIC non ci pensano minimamente solo che essendo così le nostre aziende hanno problemi all'esportazione perché il RIC ha maglie nettamente larghe oggi sui requisiti per la mia giacca cioè è molto puntuale sulle sostanze chimiche utilizzate molto molto meno sulle sostanze chimiche presenti negli articoli quindi questo è un problema non c'è da questo punto di vista voglio dire un'equità tra il produttore statunitense o anche del Vietnam o anche della Cina e il produttore europeo c'è un enorme problema di capitolati privati che vanno molto oltre al RIC cioè oggi in giro sul mercato ci sono una serie di capitolati di requisiti di non presenza di sostanze pericolose sulla mia giacca che vanno ma molto molto al di là dell'allegato 17 assolutamente non c'è paragone ma questi giungono anche questo è il rischio ulteriore per ad esempio le aziende chimiche i produttori di coloranti di prima perché a volte questi capitolati impongono l'utilizzo di determinate miscele nome con nome di determinate miscele quindi anche di determinati fornitori e questo è un rischio folle per mettere fuori mercato le piccole PMI produttrici o commercializzate di ad esempio coloranti o prodotti chimici italiani è un dato reale che è sul mercato oggi che è al di là del reach ci sono poi altre situazioni ho portato solo alcune slide ma per dire quali sono le criticità a volte si è obbligati come PMI produttrici italiana a sottostare certificazioni internazionali private che mi vengono in azienda e mi costano magari 25 30 mila euro per un PMI vi giuro che è un'entità enorme e vengono a certificarmi che io non inquino è chiaro che io non inquino cioè se sono un produttore italiano europeo la cosa è diversa se questo succede se l'azienda è in Bangladesh piuttosto che in Cina ci sono naturalmente delle possibilità di soluzione ed è quello che anche sono contenute queste slide è un'estremissima sintesi del rapporto che abbiamo fatto per il ministero del gruppo economico quindi andando oltre al REACH la necessità e la possibile soluzione è dimostrare che quanto viene prodotto realizzato in filiere produttive europee che sottostanno anche al REACH è meglio di quanto prodotto in altre filiere produttive dal punto di vista dell'impatto sulla salute dal punto di vista dell'impatto sull'ambiente e quant'altro questo nel 2015 era nel rapporto fatto per il ministero del gruppo economico come una possibilità ed era anche una possibilità di promozione del sistema paese o del sistema moda se volete perché in teoria poi è chiaro che bisogna andare in pratica le singole situazioni ma in teoria le filiere le aziende produttive europee e quando parlo di filiere parlo di filiere al plurale cioè ci metto dentro la filiera tessile la filiera della pelle ma la filiera chimica naturalmente perché senza la filiera chimica e le altre due filiere muoiono queste filiere sono già molto più sostenibili dei competitor a basso prezzo non fosse altro perché siccome comincio ad avere i miei anni quando ho iniziato a fare l'esplosione di produzione aziende tessili ma siamo agli inizi o addirittura a fine degli anni 70 non c'era problema a sapere cosa tingeva al vicino bastava guardare il torrente era giallo verde rosso e blu non è più così non è più così perché è cresciuta in modo cospicolo a legislazioni controlli delle autorità competenti ma anche la coscienza civica degli imprenditori stessi ma nonché il regolamento riche le filiere prodotti italiane hanno un uso di bambini piccoli hanno i sindacati eccetera eccetera quindi sono già molto più sostenibili quindi quello che era una proposta possibilità nel 2015 è già diventata una cosa concreta nel senso che per la prima volta nella storia mi viene da dire il sistema paese italia tutti gli stakeholder sono riusciti a lavorare assieme per definire è chiaro che è un approccio privato e non cogente non stiamo parlando di legge ma è un approccio privato per fare la fotografia di quello che è lo stato dell'arte di filiere produttive coerenti dal punto di vista della sostenibilità a 360 gradi abbiamo realizzato le linee guida sui riarticoli quindi sulla mia giacca sto parlando di articoli testi abbinamento a pelle e calzature cioè questo di cui ci occupiamo ma se vedete è eclatante che ci sono tutti i soggetti cioè da tutti i brand italiani a Federchimica a Sistema Moditalia all'Unione Nazionale Industria Conciaria non era assolutamente mai successo questo vuol dire fare ordine vuol dire fare ordine serve tantissimo perché sennò le aziende sono subissate di capitolati più astrusi in assoluto cioè c'è qualcuno che chiede che sulla mia giacca ci sia uno quantitativo di una sostanza molto al di sotto ad esempio di quanto ci sia nell'acqua potabile o in un alimento voglio dire non ha nessun senso è ingarantibile non ha nessun senso questo serve per realizzare quello cioè per dire che il sistema peso in qualche modo risponde unito a queste diciamo solle citazioni del mercato e declina i requisiti su due colonne il proattivo è stato chiamato così e un avanzato ma il proattivo è quello che già oggi è fattibile da filiere produttive italiane servite dall'azienda chimica italiana e che va già anche questo oltre a rice sto parlando dei requisiti sulla mia giacca per cui ho messo solo un pezzettino della tabella di sintesi che c'è all'interno del documento dove però un enorme problema sono i metodi analitici qui abbiamo discusso per un anno circa per definire la colonna del metodo analitico per cercare una determinata sostanza sulla mia giacca e la cosa si complica enormemente se io devo cercare quella sostanza all'interno di una miscela chimica complessa lo dico perché questi saranno i nostri prossimi step cioè stiamo lavorando anche una linea guida sulle miscele chimiche utilizzate all'interno delle filiere produttive europee e qui ci scontreremo con il problema del del metodo analitico del detection limit del quantification limit e la stessa Europa ci dà delle risposte del tutto generiche perché se mi dici che il metodo analitico è cercare quella sostanza con un gas massa direi che non è una grande risposta dal punto di vista del metodo analitico però questo sa da fare questo stiamo facendo e tutto questo ha a che fare con il reach si ha a che fare con il reach perché ci sono due aspetti che bisogna considerare noi ad esempio lavoriamo con il Ministero della Salute ho quasi finito Pietro tranquillo sto nei tempi con il Ministero della Salute e con i naso le Procure della Repubblica controllando quanto circola sul mercato mi è chiaro con controllo a posteriori quando è successo qualche cosa e quindi su miliardi di articoli in circolazione una goccia nel mare ma questi sono i dati che vengono fuori per cui vedete benissimo da dove arrivano i prodotti incriminati non vuol dire che tutto quello che arriva da lì è incriminato chiaramente no vuol dire che se c'è un problema arriva da lì e non da altre parti quindi cosa servirebbe al sistema paese italiano della moda ripeto quasi 100 miliardi di fatturato se non di più occorrebbe che Rich diventasse un po' più puntuale sugli articoli sulle sostanze presenti negli articoli bisognerebbe assicurare che se una sostanza non è più utilizzabile in Europa quella non ci sia sull'articolo importato perché se no ci limitiamo a far fare le lavorazioni in Turchia senza neanche andare in Cina e importarci l'articolo di conseguenza ho citato il bicromato che ho citato anche prima Pietro perché sicuramente la mia giacca è stata tinta col bicromato di sodio che altrettanto sicuramente è un cancerogeno perché ha dentro il croma rosavalente ma altrettanto sicuramente non crea problemi per nessuno perché centinaia decine di anni di utilizzo non c'è un dato non un dato che correle a quell'utilizzo di quella sostanza in una buona prassi di fibrigazione con l'insorgere di una patologia nulla però tant'è è finito nella candidate list è finito nell'elegato 14 le aziende tessi lo stanno utilizzando hanno chiesto l'autorizzazione mettiamo che venga concessa ma l'autorizzazione è a termine cosa succederà quando l'autorizzazione sia scaduta e le imprese italiane non possano più utilizzare il bicromato di sodio semplicemente che chiuderemo altri pezzi di imprese e faremo tingere il bicromato di sodio all'anificio al Cairo importandoci tranquillamente la mia giacca rifinita nello stesso modo perché non c'è modo di fermarla a meno che Rich definisca che il bicromato di sodio non è più utilizzabile qua e definisca il metodo analitico per andarlo a cercare sul mia giacca e questo aiuti a fermare l'importazione selvaggia direi che l'ultimo slide ho finito grazie dell'attenzione meriterebbe grazie dottor Rossetti di questa presentazione occorrerebbe per lui un'altra presentazione cioè la dovrei fare io su quello che lui ha detto però non possiamo farlo il problema è che sul tessile abbiamo il bicromato di sodio e lo stanno risolvendo abbiamo i CMR nel tessile che la commissione ha dato in carico o meglio più che la commissione sono la Germania alcuni stati membri stanno lavorando per i CMR sul tessile per fare una restrizione in questo settore cioè evitare che delle sostanze svhc le ritroviamo nei tessuti che indossiamo do la parola adesso al dottor Cessino Govoni che parlerà dello sportello regionale occorre il dottor Govoni è un un veterano delle sostanze chimiche e quando non c'era riccio era già pienamente attivo presso la regione Emilia Romagna era una persona molto ed lo è ancora oggi preparata e che sviluppa una vigilanza capillare sul suo territorio di competenze oggi si dedica invece a quella che è l'informazione e degli sportelli regionali e per cui gli do la parola grazie prima si leggeva prima si leggeva prima si leggeva poi la me la ho già messo non so se un po' un po' ok bene allora ringrazio ovviamente il comitato tecnico di coordinamento nazionale per l'invito perché poi in realtà questa iniziativa parte dalle proposte che il comitato tecnico di coordinamento propone a livello nazionale e vorrei introdurre questo argomento parlando appunto delle competenze che le regioni hanno in materia di informazione e formazione e assistenza noi ci dimentichiamo nonostante le regioni siano lente che in primis ha la competenza primaria appunto del controllo delle sostanze pericolose producono elementi di informazione e formazione perché questo in realtà oltre all'assistenza è il primo obiettivo è inutile fare applicare o tentare di voler fare applicare le norme quando le imprese non le conoscono o sono in difficoltà ad applicarle perché ovviamente le devono capire ho apprezzato molto l'introduzione del dottor Guerra direttore generale della prevenzione sanitaria proprio perché ha introdotto il concetto di piani regionali piani nazionali della prevenzione che ovviamente hanno avuto la loro espressione o hanno in questo momento la loro espressione nell'ambito dei piani regionali della prevenzione direi che sappiamo tutti che la regolamentazione è molto vasta sappiamo che dobbiamo come autorità territoriali del controllo ma anche nell'azione della prevenzione nei luoghi di vita di lavoro dare la possibilità che appunto le imprese e tutti gli attori coinvolti nell'applicazione dei regolamenti possono attuare in maniera omogenea queste regolamentazioni. Nonostante questo, nonostante la volontà e la necessità di produrre questi elementi di approfondimento l'impresa ritiene che questa applicazione in alcuni casi sia praticamente impossibile scalare una montagna con un masso, avere tanta card a che fare e molte volte chiedono aiuto. Evidentemente le imprese sappiamo non conoscono bene questi regolamenti ed è utile soprattutto l'end user oltre il downstream user ovviamente che non conoscere questi regolamenti come poi abbiamo intuito anche nelle prime relazioni potrebbero accogersi che tutta questa normativa, tutti questi argomenti possano e potrebbero essere molto utili ma erano già utili, potrebbero essere sicuramente utili nell'immediato. E allora si rendono conto, non vorremmo che si rendano conto che all'ultimo momento gli arrivi qualcosa di sgradevole sulla testa e questo evidentemente è una volontà che tutti abbiamo per poter fare sì che le cose si svolgano nel migliore dei modi. Allora in questo contesto in cui è necessario informare, in cui già dal 2010 le regioni hanno cominciato attraverso il primo piano regionale in cui è stato introdotto l'argomento in particolare del RIC in questo ambito hanno preso atto che era necessario fare qualcosa. Allora chi è all'interno delle regioni che può fornire elementi di chiarimento, di chiarezza sull'applicazione delle regolamentazioni? Vedete che nella mia trattazione io non ho potuto scorporare il regolamento CLP dal regolamento RIC perché di fatto il regolamento RIC senza il regolamento CLP non sta in piedi per alcuni aspetti molto importanti che interessano l'impresa. Non dimentichiamo che il recente decreto legislativo 39 del 2016, 15 febbraio 2016, che è entrato in vigore il 29 marzo di quest'anno, impone all'end user di conoscere il regolamento CLP e di conseguenza impone all'end user di conoscere tutti gli elementi che produce il CLP all'interno del regolamento RIC. Per cui in questi piani regionali che poi sono continui nell'arco dell'attuazione e in particolare anche nella visione di uno futuro livello essenziale di assistenza per il quale le regioni dovranno fornire obbligatoriamente informazioni alle imprese e ai cittadini, si pensò all'interno della mia regione di aprire in ogni dipartimento di prevenzione e di sanità pubblica uno sportello informativo rivolto alle imprese coinvolte nel RIC-CLP. Senza essere un doppione degli helpdesk nazionali RIC e CLP, evidentemente, ma essere in sinergismo. Aspetto peraltro estremamente apprezzato dall'Agenzia Europea delle Sanze Chimiche e dall'ECA perché appunto su dei livelli di base per il quale è necessario che le imprese capiscono quale sia ad esempio la tendenza dell'organo di controllo nell'attuare determinati aspetti della regolamentazione dei regolamenti RIC-CLP, evidentemente questo rappresenta un punto di forza notevole. e proprio sulla base del piano regionale di prevenzione e di integrazione, l'Emilia Romagna ha realizzato nel 2012 appunto una rete di sportelli informativi RIC-CLP che comunico fra di loro. Ogni sportello è integrato nel senso che ogni sportello, un quesito prodotto ad ogni sportello poi viene eletto da tutti coloro che sono deputati a fornire un contributo alla risposta nei confronti dell'applicazione dell'ormativa per le imprese. Allora alla fine del 2012 basta digitare su qualsiasi motore di ricerca sportello informativo RIC-CLP dell'Emilia Romagna, Modena, Reggio Emilia, Bologna eccetera eccetera e noi entriamo in un mondo che è in interazione, cioè è un sistema che ha un'immagine ma che all'interno è in completa interazione con tutto il sistema regionale della prevenzione. per cui abbiamo elementi di coniugazione, di coniugazione, di link degli alberghi nazionali senza tralasciare ovviamente la competenza primaria su questo tema ai portali che sono deputati. Alcuni risultati per fare un primo bilancio non sono tantissime le attività, le domande dal 2012 sono 156 sono, come vedete, stanno gradualmente lievitando verso il regolamento CLP tralassando a RIC l'aspetto più rilevante che noi troviamo all'inizio le schede di sicurezza non erano un aspetto importante gradualmente diventa estremamente importante e non dimentichiamo che ovviamente il tema delle schede di sicurezza o delle schede di sicurezza estese a cuore soprattutto nell'attività che si svolgeranno nei prossimi anni soprattutto nel prossimo anno in particolare attraverso il nuovo Rich Enforcement No.5 abbiamo proprio questi aspetti, questi dati che ci indicano quali siano le esigenze che hanno le imprese proprio per migliorare il sistema i punti di forza il punto di forza è fondamentale all'interno del sistema perché se voi vi ricordate il dottor Guerra dice la formazione degli ispettori allora se noi condividiamo all'interno degli ispettori le domande e le risposte questa potenzia la formazione degli ispettori in relazione alle esigenze che hanno le imprese che ha anche il cittadino in realtà perché poi anche il consumatore diventa un attore fondamentale con il quale interagire e dare risposte positive e la condivisione delle risposte fornisce agli utenti informazioni circa l'orientamento di condiviso e quindi quali sono le attività che si svolgono in relazione successive, in relazione al tema oggetto della domanda ovviamente l'area di miglioramento sono tante come quella di raggiungere più facilmente questi sportelli come migliorare il raggiungimento di questi siti proprio per chi in realtà si trova a interagire soprattutto con l'organo di controllo l'azione e il supporto ovviamente non si eserisce in questo perché una volontà del piano regionale di prevenzione del 2010-2012 era quello di interagire con invece i non rondo cioè quelli che in realtà sono deputati nel concreto a dare risposte sui temi importanti dell'applicazione dei regolamenti per cui siccome esisteva uno sportello estremamente rilevante all'interno di una camera di commercio che dal 1996 dava risposte in materia di rischio chimico l'indicazione era quella di collaborare con le camere di commercio e allora sono nati gli sportelli telematici, informativi chiamati RICCLEP dell'Emilia Romagna che non sono altro che la collaborazione sono nati dalla collaborazione fra gli sportelli appunto del sistema sanitario con gli sportelli appunto che la Doris Sacrafici raccontava poc'anzi e che ovviamente chiaramente superò abbondantemente perché gli accordi fra il MISE e questa rete italiana Enterprise Europe Network ovviamente è ormai conosciuta a tutti nella sua ampiezza ma quindi parallelamente ad un'interazione con diciamo così le autorità competenti di RICCLEP per il quale io se voglio avere una risposta devo notificarmi devo produrre i miei riferimenti lo sportello telematico dell'Emilia Romagna in collaborazione con un camere è uno sportello che assolutamente è anonimo per il quale certo certo grazie ho capito concluderò in tre minuti e questo è assolutamente un aspetto su cui riflettere perché ad esempio mi collego a quello che il dottor Firmo diceva stamattina il direttore generale nello sviluppo economico una volontà della normativa esistente in Italia è che le piccole e medie imprese nel momento in cui non avessero dai loro fornitori informazioni sufficienti tutte le informazioni sufficienti ad esempio sulle sostanze chimiche hanno la possibilità ai sensi dal 2003 ai sensi dell'articolo 13,4 di denunciare questi elementi all'autorità di controllo perché lo ministero europeo dell'attività produttiva allora aveva proposto questo tipo di interazione se proprio non ne potete fare a meno fate questo livello di denuncia allora senza passare ad un livello di denuncia che appunto è verosimile possa invece passare attraverso un livello di collaborazione alla fine di interfaccia di cooperazione di collaborazione alla fine allora però l'obiettivo è questo cerchiamo di migliorare in modo tale che si possa offrire gratuitamente di informazioni che ci portano ad avere informazioni in tempo utile a seguito appunto delle domande che vengono predisposte lo sportello della regione di Milomagna gestito dall'Unione Camere ha un format ha un criterio molto simile a quello che diciamo si è creato all'interno dei dipartimenti di prevenzione e sono due livelli di interazione per il quale in questo secondo caso le aziende si propongono a questo sportello in maniera anonima per il quale l'interazione fra gli ispettori e le domande che vengono svolte hanno quindi una risposta basata appunto sull'anonimato per il quale comunque le imprese che non si sentono nella condizione di svelarsi o i consulenti di svelarsi nel loro nome comunque hanno la possibilità e se andiamo a fare i bilanci in realtà questa necessità di non svelarsi in effetti non c'è perché poi le domande in un caso sono 65 diciamo i quesiti proposti nel caso dello sportello informativo telematiche sono oltre 160 quelli invece in cui sia il consulente che l'impresa si svela i punti di forza i punti di miglioramento sono grossomodo gli stessi nei due casi e questo è un esempio per il quale si possa andare non è ovviamente il modo obbligatorio che le regioni hanno per adempiere però evidentemente alla informazione alla formazione di assistenza ci sono altre metodologie però questo può essere chiaramente una metodologia per formare gli ispettori per rendere possibile il confronto con le imprese e ovviamente interagire in maniera omogenea sul territorio una domanda fatta in un territorio tutti la leggono per cui abbiamo anche assistito al fatto che ovviamente un interlocutore facesse la stessa domanda su diversi sportelli non pensando che ci fosse il collegamento per cui chiaramente le imprese ci provano fanno un quesito uno sportello fanno così o un altro per vedere se la risposta è omogenea in questo caso la risposta è sicuramente omogenea perché tutti leggono dall'altra parte quello che viene fornito come elemento di domanda ma anche come risposta ok vi ringrazio l'attenzione grazie grazie dottor Govoni io credo che il punto di informazione dell'Emilia Romagna sia accessibile a tutte le regioni è ovvio mi pare e quindi utile a tutte le imprese nazionali per continuare sullo stesso discorso dell'informazione diamo la parola al Ministero dell'Ambiente nella persona dottoressa Susanna Lupi il Ministero dell'Ambiente ha come primario compito proprio quello di divulgare le informazioni attraverso il sito istituzionale ma anche attraverso altre vie per far sì che tutti noi in particolare l'industria abbia un punto di riferimento per conoscere le novità che vengono man mano partorite dal Leica e dalla Commissione anche il Ministero della Salute ha un sito proprio nel quale potrete forse l'informazione più aggiornata è quella dei posti di lavoro presso Leica sono regolarmente e puntualmente inserite tutte le richieste che Leica fa al nostro paese e agli altri paesi europei di personale ok vedo che Susanna è pronta gli do la parola buongiorno a tutti allora un po' a seguito di quello che ha detto anche adesso Celsino Celsino ha parlato dell'informazione delle regioni noi facciamo un rapido escursus su quello che si sta facendo in vista del 2018 abbiamo detto oggi più volte che la scadenza del 2018 tutte dovranno essere registrate tutte le sostanze prodotte o importate in quantitativi da 1 a 100 tonnellate questo basso dosaggio tonnellaggio ci impatterà in maniera particolare come abbiamo detto sulle piccole e medie imprese ancora oggi più volte è stato detto che potrebbero essere non pronte inconsapevoli o anche ignorare del tutto di essere i destinatari dell'obbligo di registrazione ma poiché in base a Rich il VIG è il principio non data non market se non registreranno queste imprese non potranno più continuare a produrre importare utilizzare le sostanze quindi in base a questo in questa situazione l'agenzia europea per le sostanze chimiche e gli stati membri stanno mettendo in atto una serie di azioni di informazione e sensibilizzazioni alcune rivolte alle imprese altre ai cittadini per le imprese affinché si attivino immediatamente registrare una sostanza abbiamo visto oggi anche dai rappresentanti delle aziende comporta un processo di coordinamento con altre imprese i tempi necessari sono lunghi le procedure sono molto complesse quindi un'azione mirata a questo per i cittadini strumenti che facilitano l'accesso all'informazione sulle sostanze chimiche la conoscenza delle sostanze infatti favorisce una maggiore consapevolezza sia sul loro uso e una maggiore attenzione alla tutela della salute e dell'ambiente l'ECA ha pubblicato in questo periodo delle nuove linee guida alcune le abbiamo viste oggi presentate documenti di orientamento delle guide pratiche e altri strumenti per agevolare l'applicazione del reach in vista della prossima scadenza anche azioni comunque sempre rivolte all'informazione dei cittadini con strumenti specifici sicuramente nel pomeriggio il rappresentante dell'ECA magari presenterà alcune di queste iniziative ma volevo fare un focus sull'infocard e il nuovo sito che l'ECA sta preparando per i consumatori l'infocard ne ha parlato anche la dottoressa De Avila è una scheda informativa di primo livello di informazione e contiene quindi una breve descrizione di ogni sostanza chimica sulla scheda di ogni sostanza sono indichettate le relative proprietà pericolose la classificazione l'etichettatura le informazioni di modalità d'uso e include anche la descrizione delle misure di regolamentazione cioè se la sostanza è strata restretta o autorizzata le informazioni naturalmente si basano sui dati che le aziende hanno presentato all'ECA e non sempre sono complete unica difficoltà per l'infocard è il fatto che è tutta in lingua inglese e sappiamo come ha detto stamattina anche Pietro Pistolese quanta difficoltà si ha per i cittadini italiani di comprendere l'inglese di conoscerlo questa è una tipologia dell'infocard dove vediamo che ci sono indicate le identificazioni di sostanze le classificazioni le proprietà della sostanza è uno strumento utile sia per le aziende in una prima fase ma soprattutto per i cittadini e là invece il nuovo sito per i consumatori l'ECA sta realizzando questo sito per dare informazioni sull'impatto che le sostanze chimiche hanno sulla vita di tutti i giorni e come utilizzarle e invita tutti gli interessati e quindi anche tutti noi a compilare un breve questionario si rivolge direttamente ai cittadini individuando anche delle figure particolari tipo i parrucchieri l'operaio piuttosto che lo studente e chiede aiuto per creare questo sito fruibile da parte di tutti il sito sarà quindi quello l'obiettivo sarà quello di facilitare le scelte più sicure migliorare l'informazione la conoscenza delle sostanze in modo da conoscere soprattutto le sostanze chimiche pericolose e che vengono gradualmente limitate o vietate a livello europeo naturalmente come oggi più volte è stato detto uno dei problemi è per le sostanze che vengono arrivano dall'esterno dell'Unione quindi ai paesi extra europei e soprattutto all'interno degli articoli però speriamo che anche su questo ci sarà una maggiore attenzione facendo riferimento alla relazione generale del RIC della commissione del 2013 ci sollicitava a tutti una maggiore attenzione all'efficacia della comunicazione di informazioni sulle sostanze sul loro uso sicuro lungo tutta l'intera catena di approvvigionamento e di intensificare quindi gli sforzi per sviluppare e trovare strumenti necessari a tale scopo quindi anche strumenti nuovi in questa ottica dal 2007 ad oggi le amministrazioni che attuano in Italia il RIC e quindi tutti i componenti del Comitato Tecnico di Coordinamento hanno svolto diverse iniziative alcune periodiche come la conferenza RIC come alcune pubblicazioni che facciamo periodicamente altre i concorsi scuola anche ma anche altre che vengono continuamente implementate oltre alle banche dati che hanno all'interno alcune e tutte le novità rispetto alle sostanze ristrette o autorizzate mi va di sottolineare l'importanza del RIC .gov.it questo sito voluto dal Comitato Tecnico di Coordinamento dove dovrebbero confluire tutte le informazioni o comunque essere una finestra su quella che è l'attività delle cinque amministrazioni pur non sostituendosi a quella che è l'attività istituzionale di prerogativa di ciascuno oggi ho sentito sia il dottor Rossetti che il Raimo che hanno presentato delle iniziative molto precise che ci piacerebbe di queste iniziative anche la linea guida che ha fatto l'associazione Ambiente e Salute magari averle e poterle rendere accessibili anche dal nostro sito il ministero dello sviluppo economico è il pedestre nazionale RIC quest'anno proprio in vista della scadenza del 2018 ha fatto un'azione mirata rivolte alle aziende alle 3.271 imprese che avevano pre-registrato nel 2008 ma ancora non hanno registrato alle associazioni imprenditoriali alle organizzazioni della rete Enterprise gli sportelli di cui parlava prima Celsino le 10 associazioni di operatori aziendali della sicurezza il coinvolgimento è stato diretto e è stato richiesto di poter far facilitare lo scambio di informazioni anche attraverso una scheda informativa sulla scadenza del 2018 per rappresentare quello che è stato fatto in questo anno il ministero dell'ambiente che come diceva prima Pietro è il ministero l'autorità che più si occupa un po' di informazione oltre alle attività ormai consolidate abbiamo presentato nel 2015 quindi un anno fa circa una proposta di campagna nazionale di comunicazione sul regolamento RIC questa iniziativa è stata promossa dal ministero ma in accordo e condivisa dagli altri due ministeri sia il ministero della salute che dal ministero dello sviluppo economico la proposta è stata accolta ed è stata inserita nel piano di comunicazione per il 2016 della presidenza del consiglio dei ministri la campagna quindi ha perché abbiamo deciso una campagna sia per quello che abbiamo detto prima del fatto che la registrazione troverà probabilmente molte imprese impreparate sul non essere informate sull'argomento e si calcola che il 70% delle piccole e medie imprese italiane non conosce l'impatto che RIC ha sulla loro attività e spesso ignora proprio quali sono gli adempimenti da assolvere e quindi in vista di questa prossima e ultima scadenza che li può vedere protagonisti abbiamo pensato che nel 2017 potesse essere l'anno chiave proprio per fare questa azione di sensibilizzazione e per favorire il loro coinvolgimento il titolo della campagna è carta di identità delle sostanze chimiche 2018 ultima scadenza questo per sottolineare come la registrazione permette un'identificazione e una conoscenza delle caratteristiche delle sostanze e quindi diventa la registrazione come una carta di identità delle sostanze nel momento in cui la sostanza è registrata e quindi ha ottenuto la sua carta di identità potrà circolare ed essere commercializzata all'interno dell'Unione Europea potrà essere conosciuta e quindi riconosciuta e identificata il titolo ha dovuto condensare un po' qual era il messaggio che noi volevamo portare avanti il target sono quindi da un lato le imprese medio e piccole e micro fabbricanti importatori distributori utilizzatori e dall'altro il pubblico in generale quindi consumatori che acquistano prodotti chimici per usi propri e considerando un po' tutte le categorie di cittadini non solo diciamo una tipologia generica ma proprio i lavoratori gli studenti le famiglie gli obiettivi sono tanti probabilmente verranno condensati ora siamo nella fase di individuare l'agenzia che poi farà diciamo seguirà la campagna la sensibilizzazione sicuramente sensibilizzare le imprese a crescere nel pubblico la consapevolezza sull'efficacia del sistema europeo di controllo per i rischi associati alle sostanze e quindi rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e quindi di conseguenza anche dei prodotti europei informare i cittadini per favorire un comportamento orientato alla prevenzione e alla salvaguardia della salute attraverso utilizzo responsabile dei prodotti promuovere lo scambio di informazione all'interno della catena di approvvigionamento questo era un elemento che anche nella scorsa conferenza in tutto questo periodo abbiamo visto come un elemento debole del processo di comunicazione inoltre promuovere le sostituzioni delle sostanze maggiormente pericolose con quelle che siano meno pericolose per l'ambiente e anche ridurre la sperimentazione animale la campagna verrà realizzata attraverso uno spot uno spot che verrà trasmesso sull'emittente RAI negli spazi messi a disposizione dal dipartimento di informazione editoria della presidenza del consiglio dei ministri lo spot sarà strutturato per poi essere anche veicolato attraverso i principali social network attraverso un'azione di viralizzazione sarà elaborato un banner presente poi nell'onfedio dei siti interessati in particolare sul sito ricce.gov.it dove il sito stesso diventerà una cassa di amplificazione per tutta l'iniziativa della campagna per il suo messaggio e verranno messi a disposizione tutto il materiale disponibile queste sono le campagne che penso voi tutti conosciate la prima è sul regolamento rich sulle sostanze chimiche sono passati sulle reti RAI l'altra è quella dell'ECA su fate acquisti oggi sapete esattamente cosa comprate la terza speriamo che venga a conclusione di tutto il processo leader che è piuttosto complesso sarà la nostra campagna di comunicazione carta di identità sulle sostanze chimiche 2018 ultima scadenza tutto questo per dire che le istituzioni nazionali europee realizzano attività di comunicazione individuano i diversi strumenti cerchiamo sempre di fare il meglio di trovare cose nuove per arrivare al pubblico per arrivare agli interessati le associazioni di categoria svolgono attività di informazione ai propri associati questa la maggiore conoscenza degli adempimenti ricce e anche la maggiore conoscenza delle sostanze può favorire quindi un migliore scambio di informazione lungo tutta la catena di approvvigionamento se questo avviene allora anche la richiesta di informazione da parte dei consumatori il famoso articolo 33 un po' bistrattato e poco conosciuto potrà essere soddisfatta questa era la mia ultima slide grazie per l'attenzione dunque grazie Susanna dottoressa Lupi per questo chiaro e chiara descrizione di tutte le attività in atto e pregresse ora credo che sia venuto il momento più interessante quello di sentire voi e i vostri dubbi e cercare di chiarirli dove è possibile quindi io direi i relatori che se vengono fatte delle domande che li riguardano possono rispondere dal posto in cui sono seduti infatti esiste un microfono per ogni posto sedere basta premere quel pulsante che avete sulla maniglia e potete dare una risposta ora prego io mi chiedo va bene va bene fino a che ora si può andare a pranzo nessuno mi ha avvisato qui nel programma mi sembra che si parli delle 13 va bene confermato allora prego sentiamo se avete domande da Paul si c'è la possibilità che ci sia una proroga di Rich dopo il 2018 non è possibile Per questo bisogna andare a fare una procedura legislazionale, quindi una proposta commissione che deve essere discutita con il Parlamento e il Consiglio, e non avremo tempo. Normalmente questa procedura si prende circa tre anni, quindi è molto tardi. Comunque, quello che dovete tener conto, a prescindere dal 2018, c'è anche il 2017, cioè coloro che non hanno il 31 maggio, la data ultima per attuare l'articolo 28 del RIC, cioè quello che permette la pre-registrazione e i tempi massimi, è quella data che vi ho detto, del 2017, oltre alla quale non potete più pre-registrare. E questo è già di per sé un problema, quindi rimandare la data del 2018 è veramente impossibile, è un dispositivo, nell'articolato del RIC non si cambiano le disposizioni di una legge europea. Qualche altra domanda? Così lo guardo. Nella sua interpretazione lei ha detto che il posto regolamento sarà interretorattivo, diceva che uno dei casi in giudizio dell'articolato retrativamente è quando una legge abituata dovrà essere modificata a giornate, eccetera, in qualunque caso la giunzia si accorde che magari sono due risorse differenti. Ma nel momento in cui invece non succede questo caso, cioè non c'è un aggiornamento, non c'è una modifica del posto di registrazione. Quando la giunzia interviene, io le faccio un caso, noi abbiamo, mettiamo una sostanza, la manipoliamo e la rivendiamo, quindi reticettiamo al nostro nome e mettiamo la scheda di sicurezza. Ad oggi esiste una choice of mission con una certa classificazione per altri dati e un'azienda che ha fatto la registrazione dal conto sicuro. La spiegazione è diversa, nessun dato. Noi contiamo da entrambi e ritroviamo quindi ad avere, per la stessa sostanza, informazioni totalmente differenti. Ci chiediamo quindi di quando la giunzia interviene l'associazione di questo genere? È una bella domanda, nel senso allora, attenzione, quando si va con classificazioni diverse può essere che ci sia un opt-out, quindi non stiamo parlando di dissociazione completa come facevo io l'esempio di quando un'azienda non si riconosce nei dati con il leader registrant. Un opt-out in una classificazione può derivare anche dal fatto che un'azienda potrebbe avere dei dati, dei dati anche interni, una malattia professionale ad esempio, o degli inquinanti nella sostanza spesso. Può essere che tu hai delle informazioni sulla sostanza che derivano dal processo di fabbricazione. Per cui non è, attenzione, interessante questa domanda, che una differente classificazione si rientri nei problemi del data sharing che ho visto prima. Ma attenzione, la secondo me la prima cosa da fare è cercare di capire con il suo fornitore da dove nasce la differente classificazione. Questo secondo me avete gli elementi per farlo, cioè se la differente classificazione nasce da impurezza del processo o se nasce da informazioni. Mi pare che lo xilene, la miscela di isomene e di xilene fosse in questo ambito qua. C'era una filone di aziende che avevano dei dati di esposizione, tale per cui avevano sovraclassificato questa sostanza pur essendo inarmonizzata. Ok, quindi io direi che la prima cosa, ecco, l'ECA non passa a tutti i dossier. Attenzione, è quando, se uno di questi soggetti va a fare una revisione, i suoi fornitori va a fare una revisione del dossier, allora in quel caso, ecco, chiede che deve avere le caratteristiche della Joint Submission, se c'è qualcosa che non va, viene segnalato. Scusate, sì, volevo solo aggiungere, nel momento in cui verrà eventualmente fatto un aggiornamento della registrazione individuale o della Joint Submission di questa stessa sostanza, verranno forzatamente dal sistema, forzatamente incluse, l'individuale sarà inclusa nella Joint Submission, cioè non sarà possibile fare un aggiornamento solo dell'individuale. Fino a che non c'è un aggiornamento, le due viaggiano parallelamente. Infatti, quelle che ho trovato io come esempi, ho avuto difficoltà a trovarle, proprio per questo, perché mentre prima del regolamento erano tante quelle in quella situazione, sono entrato in sostanze che sapevo avere dossier separati, non le ho più trovate, perché probabilmente in occasione di qualche aggiornamento, l'ECA le ha incorporate. Invece quella della formaldeide e quella di quel intermedio di reazione, probabilmente nessuno ha mai toccato niente, e quindi stanno ancora in quella situazione. Adesso da un suo parere anche il dottor Carlon, Claudio Carlon, che lavora all'Agenzia Europea di Helsinki, è uno dei tanti italiani che si trovano all'Agenzia, è quello che si è sistemato in un piano molto alto, dal punto di vista del ruolo che occupa il resto dell'Agenzia, per cui siamo onorati di averlo qui. Prego, Claudio. Grazie, Pietro. Semplicemente, seguendo gli interventi che mi hanno preceduto, c'è anche un'attività dell'ECA mirata ad imporre il principio OSOR su quelle registrazioni che non hanno aggiornato ancora il dossier. Però per questo ci vorrà del tempo. Diciamo che c'è un gate molto preciso che è insito nel REACH IT, al momento che impone la joint submission laddove c'è un aggiornamento. E nel frattempo stiamo procedendo anche retroattivamente ad affrontare queste situazioni di non joint submission che sono residuali e che magari non vedranno aggiornamenti nel prossimo futuro. Claudio. Prego. Chi è che vuole fare? Ah, ecco con la mano lì. C'è il microfono. Grazie. Sempre una domanda sul rapporto tra la joint submission e il singolo dossier. Se il singolo registrante ha necessità di aggiornare il proprio dossier, ma questo aggiornamento comporta un opt-out, per esempio una nuova classificazione che non si ritrova nella joint submission. I tempi di aggiornamento della joint submission rispetto al singolo membro possono essere diversi perché ricordiamo che un cambio di classificazione comporta a cascata immediata comunicazione sulla scheda dati di sicurezza della nuova classificazione. Questa scheda sarà aggiornata dal singolo membro, ma avrà uno scenario di esposizione che dalla joint submission non prende in considerazione la sua classificazione. Quindi c'è un disallineamento sostanzialmente nel temporale tra i due aggiornamenti. Come si deve comportare in questo caso? Questa è la prima domanda. Il singolo deve aggiornare con un opt-out la sua registrazione oppure può semplicemente aggiornare la sua classificazione senza staccarsi dalla joint submission? e invece nel caso in cui si deve in qualche modo esercitare un opt-out che costi va incontro con questo tipo di disallineamento? Grazie. E' un po' complessa. Allora, lei. Attenzione, se lei ha gli elementi per cambiare la classificazione per quello che ho detto prima e anche per il nuovo regolamento non esce dalla joint submission, anzi ha più forte ragione sta là dentro. Come minimo si relazionà con i leader registrant? Se in accordo con il leader registrant lei si sgancia sarà lei a provvedere alla modifica del suo dossier nella parte classification labelling e immediatamente lei dovrà fare una revisione di tutti quelli che sono i documenti che ne conseguono. Il problema è come supporto questa scelta nel senso che si è detto che qualunque tipo di problema intercorre nel dossier deve essere in qualche modo documentato. Io sono costretta a fare, perché il leader registrant in quel momento decide che non può temporalmente sostenermi in modo compatibile con la mia tempistica, io che tipo di documento... Ma che elementi ha lei per cambiare la classificazione? Sono elementi tossicologici? Un cambio della produzione che in qualche modo mi porta per esempio dentro delle impurezze diverse. Ma attenzione, adesso io non conosco questo leader registrant ma quello è tutto un affare suo, nel senso se l'impurezza va a modificare nel dossier di registrazione ci sono i vari profili, lei modifica quello e modifica la sua classificazione di conseguenza? Non so perché deve aspettare il leader registrant con le sue attività. Il discorso è che se io vado a modificare un parametro della classificazione che deriva per esempio da un chimico fisico, che mi incide anche sulla valutazione dell'esposizione o sulla valutazione, in generale sul CSR. Io il CSR e gli scenari di esposizione non ce li ho più allineati con quelli che mi dai lì da registra. Ecco il disallineamento, cioè avrei una scheda con una classificazione e uno scenario di esposizione non in linea. Perché la proprietà chimico fisica va a modificare le proprietà all'interno del CSR. In questo caso purtroppo deve passare, ma ad esempio potrebbe fare un'integrazione lei come CSR. Qui è tutto quello che dicevo prima, deve relazionarsi con il signore leader registrant. Eventualmente adesso, attenzione con questo nuovo regolamento, lei ha più la mano forte, nel senso che lei può pretendere e nell'eventualità lei si stacca. Sta sempre dentro a quella circonferenza che vi ho fatto vedere, lei si stacca e prosegue. Attenzione che dopo può anche tramite ECA chiedere rimborso, cioè nel senso che se lei spende dei soldi per questo nuovo profilo può condividere poi con il leader registrant, visto che interessa anche a lui, come diceva prima lei, la condivisione dei costi. Però se va a toccare il CSR, questo è un altro paio di maniche, un conto è, ecco questo è importante, se l'impurezza va a modificare una classificazione tale per cui non c'è poi una ricaduta necessaria perché tu rimani dentro, hai parametri definiti del CSR, ma in questo caso lei deve intervenire. Assolutamente sì. Grazie. Hai qualcosa? Costi? Costi di tutto. Hai qualcosa da dire? Sì, buongiorno. Io rappresento un'azienda a Emilia Romagna, settore fashion, tessile, e avrei una domanda molto naif, vorrei sapere queste scadenze 2017-2018 come possono impattare un'azienda come la nostra che non manipola, non produce questo tipo di sostanze, ma se le ritrova negli articoli che importano anche da paesi estereuropei. Dunque, la scadenza del 2017 per la preregistrazione tardiva e la registrazione del 2018 non impatta sui produttori di articoli che non sono anche, che importano articoli. I produttori di articoli invece che importano eventualmente sostanze hanno la scadenza di registrazione come produttori e importatori di sostanze. però, gli importatori di articoli col 2018 non hanno niente a che fare, possiamo dire. Rufflando un po' nel sito dell'Help Desk, avevo capito che noi eravamo considerati quelli che vengono definiti utilizzatori a valle o qualcosa del genere. Se li producete? Se importate articoli finiti no. Se producete gli articoli, oppure importate articoli e utilizzate delle sostanze per colorarli, per fare alcuni trattamenti chimici, siete utilizzatori di sostanze. Volevo fare una precisazione su questo aspetto qua. Quando, è anche quello che ha detto Rossetti prima, che adesso è scappato via, è vero che le sostanze negli articoli seguono un'altra strada, c'è la comunicazione di cui l'articolo 33, ma ricordiamo che all'articolo 7 tu azienda che importi giacche devi verificare se c'è la sostanza della candidatilista, se supera lo 0,1%, ma se poi calcolata nell'anno, supera una tonnellata, attenzione, tu devi verificare se l'uso di quella sostanza è riconosciuto all'interno del dossier di registrazione, perché se l'uso di quella sostanza non è riconosciuto, attenzione, scatta una notifica a LECA, dove tu devi dare una tua strategia di testing per fare colmare il gap tra gli usi previsti e quelli che sono legati all'uso della tua sostanza dentro l'articolo. Questo lo leggete nell'articolo 7 del RIC, dal comma 2 in poi. Quindi potrebbe anche essere, in un periodo ipotetico, che un'azienda che importa scarpe deve fare una registrazione di una sostanza per il semplice fatto che nessuno in Europa ha registrato quella sostanza per quell'uso. Cioè c'è come possibilità che dopo le aziende giustamente dicono io preferisco imporre tramite i capitolati di cui il dottor Rossetti prima specificato, preferisco imporre ai miei fornitori, non voglio quella sostanza perché rischio di entrare in questo filone e di diventare un'azienda registrante, ma è previsto. Volevo sottolinearlo perché è ipotetica l'ipotesi, ma potrebbe un importatore di articoli arrivare a una registrazione o quantomeno un'integrazione. Vai. È stato chiaro questo concetto, ti do subito la parola, Maury. No, solo. Gianluca è stato molto in gamba nel beccare, nel prendere il punto nevragico di questa sua domanda. Quindi nulla da eccepire sulla risposta della dottoressa Carfi, non vi sono obblighi immediati sull'articolo, però se contiene una sostanza svHC e sopra lo 0,1%, c'è quelle regole dell'articolo 7. prego, Maury. No, volevo solo aggiungere, se no, l'interlocutore di prima sta svenendo in fondo la sala, che, no, quello che ha fatto la domanda, che non lo vedo, che ha suggerito di spalle, l'eventualità che la sostanza svHC su un articolo, sia sott'essere una calzatura, superi lo 0,1%, vuol dire mille parti per milione, è remotissima. Nel senso, quando si cerca una sostanza pericolosa, che sia svHC o quant'altro, in un articolo, la si cerca in range che vanno da 0,02 ppm a, non so, massimo 100 ppm, vuol dire arrivare a 1.001, davvero è quasi una mission impossible, però è chiaro che il però rimane. Se uno lavora malissimo, può anche trovarci 1.500 ppm. Sono le importazioni, non è tanto la produzione nazionale e europea. È un problema, le importazioni, tu sai, può arrivare di tutto. che è minimale, se non è tanto la produzione nazionale, che è la produzione nazionale, tra i due settori e i due strati, quindi, non è tanto la produzione nazionale, tra le interviste nazionale, tra le interviste nazionale, non è più strano. Allora, sì, allora, adesso Rossetti, scusa, Rossetti parla, perché per il suo settore nel tessile, diciamo che questa, allora, questa è una sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'anno scorso, del settembre 2015, che in effetti ha stabilito che negli articoli complessi noi lo 0,1% lo calcoliamo anche nel subarticolo. Ok, quindi, questa domanda è molto interessante, è molto più facile adesso di una volta superare la tonnellata, perché se tu pensi in un'automobile, prima non c'era mai niente che superasse lo 0,1% perché lo dividevi per il peso della macchina, adesso che invece ogni singolo elemento della macchina è consigliato un subarticolo, fai presto a superare lo 0,1% e quindi metterlo nella sommatoria per andare a una tonnellata. Poi ricordiamo che articoli diversi si sommano, cioè se io importo cinque articoli diversi che hanno lo stesso fetalato, le quantità si sommano, si sommano 0,1% e giustamente nel settore tessile forse il subarticolo è un po' meno, a meno dei bottoni mi viene da pensare di una giacca o la zip di una cerniera dei pantaloni. no, 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 si parla di articolo che deve avere proprio la definizione di articolo, quindi deve essere un articolo, cioè la forma, la superficie deve superare. Il bottone sì, il bottone sì, il bottone anche se attaccato fisso alla giacca e l'hai un oftalato, il peso deve essere calcolato dopo la sentenza sullo 0,1% del bottone. l'assistente informatica che ho fatto. altri due sessioni posso fare domande, vediamo l'ultima, dai, non ho avuto la questione, perché il GIAC? ecco, perché il giacca l'asistente informatica è un'ultima, ma la questione che si può fare non è vera mai, Grazie. 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 for the biocides regulation because that was a delegated act and the suites chose the biocides regulation instead of the plant protection product so finally we came up with the criteria and we made very clear in our communication that it only applies from for plant protection products and for biocides in terms of how this is going to affect the other the other areas I mean I think we all need to be realistic and understand that this at least this is what it's officially coming so some extent the other legislations remain free to take another approach but this is a good indication of where things are going in terms of reach things get a bit more complicated because also ECA is involved in the biocides regulation so they have the the biocides committee and they look and they will have to use this criteria at the same time they have the endocrine's working group that work more on region and CLP and then how this the work is gonna is gonna happen it's it's difficult to imagine a full Chinese world in between both working groups but in principle it's only applicable to plant protection products and biocides and we'll need to see what are the consequences for the others in the commission we follow up the the different piece of legislation and see where we are evolving and whether eventually we really need to come up with real horizontal criteria about the Elsevier so because I 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 P I I I La reazione delle autorità italiane è una reazione che sostiene la proposta della Commissione, sostiene in particolare tra le quattro opzioni che sono state presentate dalla Commissione quando ha illustrato i contenuti della propria proposta, le autorità italiane hanno optato per l'opzione 2 che è esattamente l'opzione che è alla base della proposta della Commissione. Adesso stiamo seguendo gli sviluppi del negoziato che sono seguiti dal Ministero della Salute come amministrazione capofila, chiaramente il negoziato è in corso per cui quello che succederà il 18 novembre non so dirlo, comunque stiamo seguendo da vicino gli sviluppi di questo negoziato ma siamo tra quei paesi che sostengono la proposta della Commissione. Grazie Carlo, proprio così. C'è un coordinamento qui al Ministero perché qui al Ministero abbiamo l'unità che si occupa dei biocidi e poi un'altra unità separata da quella dei biocidi che si occupa di fitosanitari. Bene, io direi che per oggi abbiamo finito, per stamattina abbiamo finito, dovremo ritrovarci qui alle ore 14. Il lunch è qui fuori dove era prima il coffee break. Grazie. Grazie. Grazie.